Buongiorno a tutte e a tutti, ben trovati a Piazza del Popolo. Vogliamo prima di qualsiasi altra parola salutare un'amica, una sorella, un'insegnante, vogliamo salutare una compagna, vogliamo salutare una comandante. Lo facciamo da una piazza partigiana con una funzione partigiana e abbracciamo Carla Nespolo, prima donna presidente dell'Ampi, il suo testimone ora è nelle nostre mani. Carla ci ha accompagnato in tante battaglie, in tante campagne, antifasciste, antirazziste, sempre dietro un faro, quello della Costituzione. Carla ci accompagna anche oggi perché tra i diritti che madri e padri costituenti hanno voluto e difeso ce ne sono due che questa piazza rivendica e per i quali ha tanto da proporre, lavoro e salute. Da questa pandemia, ci diceva Carla lo scorso 25 aprile, ripromettiamoci tutti di far uscire un mondo più giusto, più solidale, meno a servizio al dio del denaro, più al servizio dei valori della persona e dell'umanità. di questi valori il diritto al lavoro è fondamentale. Questa era Carla e allora questa è anche la piazza di Carla Nespolo. Ed è una piazza che saluta e ringrazia anche la senatrice a vita, Liliana Segre, che ieri ci ha commosso con il suo ultimo discorso pubblico. Grazie anche a lei. Sia che siate qui fisicamente o che ci stiate seguendo dalla piattaforma della CGL Collettiva.it sulla pagina Facebook della funzione pubblica CGL, ascolterete molte voci, soprattutto molte proposte. E poi il confronto tra il ministro della salute Roberto Speranza e il segretario generale della CGL Maurizio Olandini sarà moderato dal collega Riccardo Iacona, che oltre a essere il giornalista RAI che tutti conosciamo è anche autore del libro Mai più eroe in corsia, cosa ha insegnato il coronavirus al Servizio Sanitario Nazionale. A questo proposito solo altre tre considerazioni più una. La prima, l'Italia ha adesso un'occasione straordinaria, risorse straordinarie da investire. La seconda, il lavoro è una componente fondamentale di questo paese. La terza, la pandemia ha messo a nudo le nostre fragilità anche nel sistema sociosanitario. E poi c'è il più uno, cioè questa è una piazza che ha portato a casa non meno di 48 ore fa un risultato atteso da 14 anni, il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro della sanità privata. Prima di visionare un video che riassume il senso di questa iniziativa, va detto anche che questa è una piazza sicura, che rispetta le regole, che crede nella responsabilità collettiva. Quindi vi invito tutti a restare seduti, a restare solo fisicamente distanti, a utilizzare le mascherine, a usufruire dei kit anti-covid e dei dispenser igienizzanti che sono stati messi a vostra disposizione. Vogliamo esserci, vogliamo farlo in sicurezza, perché quello che i delegati che ascolteremo hanno da dire, da proporci è essenziale. tanto quanto lo sono stati e lo sono ancora, lo sono sempre, le lavoratrici e i lavoratori della sanità, che oggi chiedono un nuovo patto per la salute. Rinformare il servizio sociosanitario si può e si deve. Dovremmo convivere per un periodo indefinito con il coronavirus. La pandemia ha mostrato lo straordinario valore delle lavoratrici e dei lavoratori che si occupano della nostra salute, ma anche i limiti del nostro servizio sociosanitario. Un New Deal per la salute, un progetto per dare innovazione e qualità al servizio sociosanitario nazionale. Un nuovo corso per la salute, che valorizzi le esperienze positive di questa prima fase dell'emergenza e risolva i problemi cronici che ci trasciniamo dietro. La nostra proposta è un sistema sociosanitario che si prenda cura delle persone per l'intero arco della vita. Un servizio per la comunità. Vogliamo mettere la persona al centro e rendere il territorio il centro della cura, con le case della salute, i servizi di prossimità e i professionisti di comunità. Bisogna potenziare i servizi di prevenzione e di protezione ambientale perché gli ospedali non siano l'unico luogo di cura e i pronto soccorso tornino alla loro funzione originaria. Servono più posti letto, spazi e risorse per la continuità assistenziale, la medicina scolastica, una nuova dimensione per le cronicità e le cure domiciliari. Vogliamo i medici di famiglia assunti dal Servizio Sanitario Nazionale. Più risorse e nuove regole. In dieci anni la sanità ha subito tagli per 37 miliardi di euro e tutti abbiamo visto i risultati. La logica dei costi standard e dei commissari straordinari non ha funzionato. La divisione dei poteri tra governo e regioni non ha funzionato. Siamo alla vigilia di stanziamenti senza precedenti. Potremo spendere, ma dovremo saper spendere bene. Dobbiamo investire in personale, tecnologie, organizzazione del lavoro e dei servizi. Per mettere in sicurezza il sistema e avviare la riconversione ecologica delle strutture. Per eliminare le disparità tra territori e garantire il diritto alla salute a tutti. Un patto istituzionale per rendere esigibili ovunque i livelli essenziali di assistenza. Più lavoro e più tutela. Vogliamo un piano straordinario di assunzioni per chiudere il buco provocato dal blocco del turnover e dai tagli. Servono medici di medicina generale e specialisti. Occorre stabilizzare i precari e dare continuità alle assunzioni fatte durante l'emergenza. Partendo dalle graduatorie esistenti e garantendo formazione. Diritti e strumenti. Per un uguale lavoro vanno garantiti uguali diritti. Vogliamo il rinnovo dei contratti, stipendi all'altezza e andare verso l'unificazione fra pubblico, privato e terzo settore. Un nuovo sistema di carriere per valorizzare la multidisciplinarietà e la crescita professionale. Vogliamo un sistema di regole contro il dumping e per la qualità. Che promuova il riequilibrio nella gestione, perché pubblico è meglio. Questa è la nostra proposta per una sanità pubblica e universale. Gli invito a salire sul palco Nicola Pelusi. Nicola ha 27 anni, è un medico in formazione in medicina generale e vuole essere un medico di famiglia. Arriva da Siena ed è tra quei giovani camici bianchi che nei mesi scorsi si sono mobilitati per chiedere la riforma del sistema formativo. E allora è a lui che passo il microfono però facendo una scommessa. Perché scommetto che a un certo punto verrà fuori il tema dei 23.000 medici specializzandi che da anni rischiano di non entrare in specializzazione e che pure questa volta aspettano senza conoscere l'esito della gradatoria bloccata proprio dal ministero qualche giorno fa. Salve a tutte e tutti. Come gli hanno detto sono Nicola, un medico in formazione nell'ambito della medicina generale. Oggi mi è stato chiesto di parlare del percorso che porta una o un diplomato a diventare un medico pienamente formato e inserito nel servizio sanitario nazionale. Ecco, forse dirò qualcosa di scontato a molte e molti, ma fin dall'inizio, fin dal test d'ingresso ai corsi di laurea in medicina, c'è qualcosa di profondamente ingiusto nel nostro sistema formativo. Un diplomato o una diplomata si trova ad affrontare un test a crocette che, numeri alla mano, è strutturato più per escludere che per selezionare. Un meccanismo squisitamente classista che premia chi può permettersi di pagare costosi manuali e costosissimi corsi di preparazione. Chi può permettersi un trasferimento in qualsiasi città d'Italia può di studiare e magari chi non ha necessità di lavorare d'estate. Grazie. Chi dovesse riuscire comunque a superare il test si troverà ad affrontare almeno sei anni caratterizzati sì da un carico di lavoro importante, ma ancora una volta anche da importanti barriere di carattere socio-economico. Un sistema di diritto studio quasi inesistente. Libri di testo che tipicamente hanno un prezzo a tre cifre. Caro affitti e tasse universitari e spesso non trascurabili. La nostra formazione spesso sarà l'ultima delle priorità di chi avremo davanti. Gli atenei ospedali in fondo sono aziende e spesso il personale docente, in gran parte incolpevolmente, vede l'insegnamento come una seconda o terza professione. Dopo la laurea e l'esame di Stato ci si trova essere medici a tutti gli effetti, in grado di esercitare la professione medica. Sì, ma solo precariamente. Si entra quindi nel mondo dei cosiddetti camici grigi, sostituzioni, guardie mediche, case di riposo e corsi di formazione sulla sicurezza. Tutto sempre in una situazione di precarietà esistenziale che porta molte e molti a non voler altro che poter uscire da questa condizione. Come? Continuando la propria formazione medica, mediante una scuola di specializzazione o un corso di formazione specifica in medicina generale. Una volta terminati questi, infatti, si può lavorare nella medicina ospedaliera, nei servizi o sul territorio, e diventare quindi a tutti gli effetti membri del Servizio Sanitario Nazionale. Da anni la programmazione agli accessi alle scuole di specializzazione ha previsto che i posti messi a disposizione siano minori delle candidature. In questo modo siamo arrivati a una situazione in cui, paradossalmente, nei reparti e sul territorio mancano medici pienamente formati, ma nel 2020 sono state stanziate circa 13.000 borse per 24.000 persone. In questo modo anche quest'anno avremo più di 10.000 colleghe e colleghi che non potranno continuare la loro formazione, nonostante ce ne sia un disperato bisogno. E non penso che serva citare la pandemia attuale per dimostrarlo, ma basterebbe chiedere a qualsiasi cittadino o cittadina se sente la sua salute pienamente tutelata dal Servizio Sanitario Nazionale. Una volta entrate e entrate in scuole di specializzazione ci si ritrova a lavorare a tutti gli effetti, spesso sorreggendo l'attività clinica di interi reparti provati dal definanziamento cronico in cui versa la sanità. Ciò nonostante sia inquadrati come studenti e studentesse, quindi senza le tutele che comunemente dovrebbe avere qualsiasi lavoratore e lavoratrice, senza un monte orario definito, senza garanzie in caso di malattia, infortunio o gravidanza e per di più con una retribuzione ridicola. In aggiunta la nostra formazione è sempre messa in secondo piano rispetto alle esigenze assistenziali dei reparti in cui prendiamo servizio. Passando alla medicina generale, l'ingresso soffre delle stesse carenze e programmazione in termini di accessi, ma è organizzato su base regionale. Questo vuol dire che ogni anno bisogna attendere che le regioni si mettano d'accordo su tempi e modalità del concorso per emettere un bando che, anche per questo motivo, volte che per ritardi ministeriali vari ed eventuali, tende a slittare di qualche mese ogni anno. Una volta entrati al corso ci si deve presto abituare all'idea di essere completamente in baglia degli eventi, in un corso che sulla carta può sembrare perfetto, ma che nella pratica diventa una lotta tra la necessità di raggiungere il monte ore, i tutor ospedalieri che spesso ci vedono come impicci, disorganizzazioni amministrative varie e turni in continuità assistenziale per mettere insieme uno stipendio. Dal punto di vista pratico, forse unico caso in tutto il mondo, la medicina generale non ha alcun inquadramento accademico e il corso è completamente gestito da un sindacato corporativo e dalla società scientifica del sindacato stesso. Alla fine dei tre anni il corsista medio tira un sospiro di sollievo per aver superato quello che più che un periodo formativo è una sfida di resistenza da superare per poter esercitare la professione. Infine, una volta pienamente formate e formati, ci troviamo davanti un servizio sanitario nazionale talmente definanziato che nonostante avrebbe bisogno del nostro operato fatica ad assumerci e quando lo fa, spesso, è ancora attraverso forme contrattuali precarie quali le collaborazioni a partita IVA. Spero che finora sia emerso un tema fondamentale per garantire il diritto alla salute della popolazione e la dignità di chi per una salute lavora c'è necessità di intervenire su tutta la filiera formativa al di fuori da faci logiche corporative o di retroguardia. Non è sufficiente difendere le miserie del presente. Serve immaginare e costruire un servizio socio-sanitario nuovo che possa difendere tutto e tutti. Serve una rivoluzione della programmazione e della formazione medica, eliminare il cosiddetto imbuto formativo e superare il numero chiuso in modo da avere le e i professionisti sanitari che ci servono per costruire da zero una rete territoriale per la salute mentale per potenziare esponenzialmente i dipartimenti di igiene e medicina preventiva per potenziare la medicina generale integranda maggiormente al servizio sanitario nazionale per riaprire parti chiusi, per portare presidi specialistiche fondamentali anche nelle province e nelle periferie e non lasciare che sia un'offerta privata che specua la salute a farlo. Per consentire a chi lavora di farlo con serenità e con un monteore adeguato per avere ricercatori e ricercatrici con una formazione sanitaria. Serve una riforma dei contratti di formazione medica che superi l'attuale ibrido studente-lavoratore che tuteli i diritti fondamentali e che consenta di non porre mai la qualità della formazione in secondo piano che stabilisca una graduale assunzione di competenze rispetto alle quali il medico in formazione possa prestare la sua opera in autonomia come già spesso in maniera irregolare fa per garantire il diritto alla salute e che trovi una sua collocazione sensata in un contratto collettivo nazionale della formazione medica. Oggi dovrebbe essere presente un rappresentante del governo il ministro Speranza non so se c'è vabbè diciamo che c'è e io comunque gli dico quello che io volevo dire sappiamo che non è la prima volta che sente simili ragionamenti nei mesi passati ci siamo mobilitati e mobilitate migliaia di colleghe e colleghi da tutta Italia hanno messo a parte un pezzetto di egoismo e si sono messe e messe a disposizione per i diritti di tutte e tutti abbiamo riempito più di 20 piazze in tutta Italia abbiamo bloccato interi reparti ospedalieri e i risultati sono arrivati sì abbiamo sentito molte promesse sia dal ministero della salute che da quello di università e ricerca ciò nonostante l'immuto formativo è ancora lì di riforma del contratto dei medici in formazione non se ne vede neanche l'ombra e la medicina generale è sempre abbandonata a se stessa vorrei capire cosa stiamo aspettando se non una crisi sanitaria in cui il servizio sanitario nazionale è rimasto in piedi solo grazie al sacrificio di chi ci lavora per mettere in mano una riforma radicale che possa garantire il nostro diritto a formazione al lavoro ma soprattutto il diritto alla salute della popolazione cosa aspettiamo se non un momento in cui abbiamo a disposizione risorse straordinarie da spendere anche e soprattutto in sanità cosa aspettiamo se non il momento in cui ci sono rappresentanze di tutta la fila formativa e di tutte le categorie lavorative coinvolte che pretendono questo cambiamento mi permetto di aggiungere un appunto in questo momento 24.000 aspiranti specializzanti e specializzande aspettano di vedere pubblicata una graduatoria bloccata da ricorsi frutto dell'incapacità del ministero dell'università e della ricerca di scrivere un bando di concorso decente approfitterei di questa occasione approfitterei di questa occasione per chiedere al ministro Speranza di prendere posizione su questo tema e pretendere che la graduatoria venga sbloccata che vengano assegnati i posti in base alla stessa e che in caso di vittoria dei ricorsi vengano stanziate borse aggiuntive per coloro i quali dovessero averne diritto questo non solo per tutelare queste 24.000 persone ma soprattutto perché per tutti i motivi già detti non possiamo permetterci ulteriori ritardi nella formazione del personale sanitario sono anni che ci viene chiesto di avere pazienza che ci viene detto che un passetto alla volta i miglioramenti arriveranno ecco la pazienza è finita e vogliamo tutto ora ci sono le risorse c'è il bisogno di un cambiamento radicale che metta i fabbisogni di salute della popolazione e la dignità di chi studia e lavora al centro dell'organizzazione del servizio sanitario nazionale ci saranno altre crisi quasi inevitabili per via di cambiamenti climatici sfruttamento ambientale allevamento intensivo in attesa di risolvere anche questi problemi farsi trovare nuovamente impreparati sarebbe criminale e non è detto che vada tutto bene grazie grazie davvero intanto ci raggiungono sul palco il giornalista Riccardo Iacona il segretario generale della CGL Maurizio Landini questa manifestazione arriva a conclusione di un percorso e lancia alcune proposte con la speranza che facciano strada non siamo però a un punto di arrivo siamo a una tappa preceduta nei giorni appena trascorsi da altrettanti incontri digitali che hanno preparato il nostro terreno questi tre incontri ce li racconteranno tre delegati sindacali la prima è Nicoletta Filipponi lavora presso l'ARPA Umbria e il tema è il valore della prevenzione della promozione della salute per un nuovo servizio sociosanitario nazionale Nicoletta sta per salire sul palco ovviamente abbiamo detto fin da subito che questo è un palco questa è una piazza responsabile e quindi stiamo igienizzando i microfoni per garantire a tutti di poter esprimere le proprie domande le proprie proposte in piena sicurezza nel rispetto delle norme anti-covid che questa piazza per l'appunto sta agendo in maniera responsabile e allora Nicoletta Filipponi si può iniziare ad avvicinare l'ultimo passaggio ovviamente è la copertura del microfono grazie allora compagni io vi presenterò la sintesi del primo focus che ha riguardato il valore della prevenzione in un nuovo servizio sociosanitario nazionale in questo focus che abbiamo fatto il 7 ottobre abbiamo fatto il punto sulla prevenzione intesa in senso ampio così come l'approccio alla stessa organizzazione mondiale della salute che indicando in questa sintesi le nostre chiavi di lettura trasversali che sono il lavoro l'innovazione necessaria l'organizzazione del lavoro e dei servizi e bisogni di salute sui quali costruire le risposte per le persone e la comunità la prevenzione lo sapete è stata sempre la grande assente delle politiche di salute negli ultimi anni addirittura dalle simulazioni sulla nuova grigialea i livelli essenziali di assistenza effettuati dallo stesso ministero della salute sono solo nove le regioni che raggiungono la sufficienza su tutti gli indicatori dalla prevenzione nei luoghi di lavoro alimenti e sanità ambientale vaccinazioni per questo la prima cosa che voglio affermare con forza è di invertire la rotta in termini di risorse umane e tecnologiche e organizzazione dipartimentale aziendale investire 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 in risorse e qualità degli interventi ragionare in termini di salute e di comunità tenendo conto di tutti i determinanti di salute e di una determinata popolazione di riferimento quindi condizioni di vita condizioni di lavoro istruzione ambiente infrastrutture materiali e immateriali o nella necessità di ripensare l'organizzazione dei luoghi della programmazione e dell'intervento occorre far coincidere le conferenze socio-sanitarie con i distretti e i centri per l'impiego pone quindi la necessità di una forte collaborazione interistituzionale e interprofessionale finanziare l'area dell'area prevenzione garantire ai comuni alle regioni i finanziamenti dalle loro certezze delle risorse per poter programmare gli interventi e finanziarli la prevenzione ha bisogno di una logica a medio-lungo periodo e di continuità negli interventi per questo occorre agire in una logica di pianificazione integrata degli interventi solo per ci danni alcuni che ritiamo necessari e urgenti e per i quali debbono rendersi disponibili le risorse dell'Unione Europea il primo degli interventi è la ricostituzione e il rafforzamento della rete nazionale di epidemiologia e predisposizione dei piani di risposta alle epidemie il secondo degli interventi il piano nazionale di risposta ai cambiamenti climatici i piani nazionali per mettere in sicurezza i territori e le aree urbane da eventi esterni in collaborazione con le istituzioni competenti azioni per promuovere la partecipazione dell'associazionismo delle organizzazioni sindacali e della popolazione alle strategie di promozione della salute interventi mirati per ridurre in modo strutturale le diseguaglianze nell'accesso ai servizi e alle prestazioni sanitarie e nell'esito degli interventi a partire dall'adesione agli screening oncologici infine un programma assordinario di interventi per il contrasto alle malattie croniche non trasmissibili sulla base delle evidenze scientifiche e con il convengimento di tutti i soggetti interessati questo solo per citare alcune priorità e a proposito di luoghi e strumenti della proiezione occorre riardonare e rafforzare le agenzie per l'ambiente promuovere il coordinamento con le attività distrettuali delle aziende sanitarie investire sui dipartimenti di igiene e sanità pubblica potenziare le funzioni di vigilanza e controllo del territorio non a compartimenti stagni ma con il necessario coordinamento senza disperdere le specificità di ciascuna professione e di ciascun ente occorre far crescere e rafforzare i legami con le attività e servizi distrettuali che devono potersi aprire all'esterno alla comunità locale e devono essere messi in grado di lavorare per un'affettiva presa in carico delle persone pensiamo all'infermiere di famiglia all'infermiere di comunità all'intervento nelle scuole e nei luoghi di lavoro e soprattutto alla relazione con i rappresentanti dei lavoratori della sicurezza aziendali o territoriali anche quest'ultimo punto per noi è fondamentale non si può morire per lavoro tra gli strumenti indispensabili occorre un intervento riformatore quadro che individui le modalità organizzative indispensabili per tutta l'area della prevenzione un quadro normativo che superi la frammentazione degli interventi e delle competenze legislative in capo a Stato comuni regioni soprattutto in tema di ambiente è necessario recuperare gli aspetti partecipativi che costituiscono l'asse portante di un buon sistema della prevenzione e partecipazione dei cittadini e degli operatori l'esperienza e la competenza dei professionisti sono una ricchezza ma da mettere a fattore comune prima di intervenire per cambiare qualcosa senza cambiare nulla ad esempio il piano nazionale della prevenzione 2020-2025 approvato in conferenza Stato-Regione il 6 agosto scorso non ha visto la piena partecipazione delle parti sociali il piano nazionale comunque adotta la logica giusta della prevenzione life course cioè per tutto l'arco di vita articolandola su sei macro obiettivi quello delle malattie croniche non trasmissibili delle dipendenze e dei problemi correlati quello degli incidenti stradali e domestici quello degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali l'ambiente il clima la salute e le malattie infettive sono vincolati a tal fine 200 milioni di euro a valere sul fondo sanitario nazionale il piano nazionale della prevenzione tra le altre cose valorizza all'interno delle cure primarie non più l'intervento del medico di medicina generale ma bensì un approccio multifattoriale e multidisciplinare pensiamo all'infermiere di comunità e di famiglia ad esempio e per noi per noi della funzione pubblica CGL è un punto importantissimo che nel documento che presentiamo occupa un posto fondamentale infatti oltre al disinvestimento in termini di risorse e di personale nelle diverse aree delle prevenzioni negli ultimi anni occorre secondo noi pensare a protocolli di intervento nuovi e più efficaci snelli che facciano tra le altre cose il tesoro di tutte quelle risorse di comunità che si possono attivare in tema di prevenzione dall'ambiente ai luoghi di lavoro tra le azioni trasversali da valorizzare e finanziare c'è la formazione degli operatori di tutti gli operatori e la comunicazione istituzionale e comunicazione per la salute ovviamente rivolgendosi ai cittadini sappiamo che in tema di prevenzione la comunicazione istituzionale finalizzata alla consapevolezza dei singoli delle imprese delle famiglie è molto importante ma non è sempre chiare univoca anzi spesso si sovrappone tra enti di diversa appartenenza generando addirittura confusione e disorientamento è questo un problema che abbiamo visto in tutta evidenza durante la pandemia e ancora lo stiamo vedendo ora come Martina lo diceva io lavoro in ARPA ARPA Umbria e volevo fare un breve inciso sulla situazione della prevenzione e all'interno della prevenzione e della prevenzione primaria della situazione in materia ambientale e delle agenzie territoriali allora io sono nata lavoro in ARPA Umbria l'ho detto sono nata cresciuta in una città Terni che è fortemente industrializzata che aveva un polo chimico molto importante ormai ridotto all'osso e continua ad avere un polo siderurgico di rilievo per tanti versi si può dire addirittura che è la città che è cresciuta intorno alla fabbrica intorno alla acciaieria la mia formazione culturale prima ancora che quella professionale si è fondata da sempre sulla prevenzione che come sappiamo tutti è la cenerentola della sanità e lo è sempre stata ancora di più quella primaria cenerentola tra le cenerentole che si pone come obiettivo l'eliminazione dei fattori di rischio questa mia formazione viene facile quando si nasce e cresce in una città operaia fortemente sindacalizzata dove gli operai nei primi anni 70 rinunciando a parti consistenti di salario e rifiutando la cultura della modernizzazione del rischio stimolarono addirittura la nascita della medicina sociale e preventiva il cosiddetto mesop un'esperienza che anticipò la riforma sanitaria del 78 anticipò quelli che poi divennero i dipartimenti di prevenzione delle asle perché è facile anche perché nella mia piccola regione l'Umbria poi negli anni 80 gli amministratori guardarono lontano e formarono concorsi biennali in collaborazione con l'università i tecnici dell'ambiente che sarebbero andati nei servizi sanitari perché intuirono che avere i tecnici dell'ambiente divenuti poi tecnici della prevenzione ma molto poi ossia una delle professioni sanitarie avere loro invece che personale di ispezione controllo e vigilanza sarebbe stato meglio che la prevenzione viene prima ed è importante perché lavorare per l'eliminazione dei fattori di rischio attraverso i monitoraggi le misurazioni le attività di controllo nei servizi di igiene medicina e sicurezza sul lavoro così come in quelli nel campo della sicurezza alimentare siccome nell'ambiente di vita è importante perché io da lavoratore ARPA controllo l'aria che respiriamo quella che esce dai cammini delle fabbriche l'acqua che beviamo l'acqua nella quale facciamo il bagno d'estate con i nostri figli compagni e famiglie e voglio continuare a vivere in questo paese dai mille problemi da regione a regione diversi per tipologia e gravità voglio continuare a vivere in una città industriale nella quale la produzione ha permesso alla città di crescere e prosperare ma non voglio ammalarmi di fabbrica come non voglio ammalarmi in una terra dei fuochi perché in nessuna parte del nostro paese deve esistere un quartiere d'amburi non si deve morire di fabbrica in nessuna parte non si deve morire di alimenti contaminati gli strumenti ci sono sono quelli dei 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile dell'agenda 2030 che mettono insieme ambiente salute preservazione delle risorse benessere sociale e anche la produzione certo il referendum del 93 anno in cui cominciavi a lavorare nei servizi di medicina del lavoro delle asle ha determinato danni incalcolabili separando irrimediabilmente l'ambiente dalla salute la successiva spinta verso la regolizzazione ha fatto il resto la pandemia ha fatto prepotentemente emergere le carenze del sistema regionale e le insopportabili davvero insopportabili disuguaglianze tra una regione ed un'altra in sanità così come avviene sulle tematiche ambientali e nel sistema delle agenzie regionali di protezione ambientale perché il diritto ad un ambiente salubre e tutelato non è garantito allo stesso modo nelle nostre regioni se in sanità i LEA hanno mostrato tutte le loro fragilità di cui abbiamo detto nella sintesi del focus i LETTA che sono l'equivalente in materia di prestazioni in materia ambientale che sono stati istituiti con legge quadro 132 del 2016 che ha istituito il sistema nazionale di raccordo tra le agenzie sono lettera morta non è uscito ad oggi alcun decreto attuativo la pandemia ci ha fatto vedere anche che ruolo potrebbe avere l'inquinamento atmosferico su gravità e diffusione del virus mentre ormai nuoto il ruolo dell'epigenetica in tema di salute occorre ripensare con visione più ampia di scala almeno nazionale il sistema sanitario ma anche il sistema delle agenzie ambientali prevedendo risorse confrontabili tra regione e regione per rendere davvero esigibile il diritto a un ambiente salubre e alla salute occorre diventare finalmente consapevoli che c'è un solo ambiente c'è una sola salute e per fare questo che si traduce in un'universalità dei diritti bisogna anche riconoscere universalità dei diritti e dignità a tutti i lavoratori che vi operano perché se da una parte è fondamentale che il contratto collettivo nazionale di riferimento per i lavoratori delle altre sia quello sanitario proprio perché l'abbiamo detto è importante mantenere il binomio quanto più possibile il binomio ambiente e salute dall'altro occorre anche trovare strumenti all'interno di questo contratto che è pensato e nato sulle strutture sanitarie occorre dare riconoscimento e dignità a qual pezzo di lavoro che si svolge dentro le agenzie perché non si può continuare a non considerare le condizioni riseggevoli di chi sale sui cammini industriali tutta la settimana per misurare le emissioni delle fabbriche di chi va in discarica a controllare la correttezza nello smaltimento dei nostri rifiuti e la tutela del sole e delle falde acquifere di chi controlla gli scarichi da quelli industriali a quelli dei nostri depuratori urbani esponendo quando non arrischi quantomeno a condizioni di lavoro disagiato occorre trovare spazio per tutto ciò nei contratti collettivi nazionali perché demandare agli accordi integrativi espone i lavoratori oltre che come cittadini alle già succitate diseguaglianze ha diseguaglianze anche nel trattamento lavorativo e nella segibilità dei diritti e tutte queste battaglie può farle un sindacato un sindacato che non è corporativo un sindacato che è confederale può farle solo la nostra CGL alla quale mi sono iscritta con convinzione non appena entrata a lavorare grazie per l'attenzione ringraziamo Nicoletta Filipponi tra l'altro presentandosi Nicoletta diceva che è innamorata della prevenzione ed è bello sentire qualcuno che dice di essere innamorato del lavoro che fa e tante volte quando parliamo con i delegati quando li intervistiamo quando li raccontiamo sentiamo questo che è amore passione orgoglio e che è una cosa spesso invisibile agli occhi dei più e ora andiamo avanti perché c'è un'altra delegata che vuole intervenire e che ha un altro resoconto da fare è Erika Zaccaria lavora presso il reparto di emergenza psichiatrica del Policlinico Umberto I di Roma Erika di se stessa dice che è sempre stata centrale nel suo percorso personale professionale e di studio la presa in carico delle persone sia in psichiatria sia nel reparto a gestione infermieristica e allora sentiamo cosa ci dice perché il suo focus ha un titolo che insieme è un'ambizione e un sogno dalla centralità del territorio una nuova dimensione della cura ovviamente come sempre misure anti-covid e igienizzazione dei microfoni e poi Erika Zaccaria grazie buongiorno compagni e compagni io oggi ho il compito di fare a tutti voi il resoconto dell'emozionante ed appassionato dibattito che si è svolto in diretta Facebook l'8 ottobre sulla centralità del territorio come nuova dimensione della cura con la partecipazione di tre straordinari esperti Livia Turco Giovanni Bissoni ed Elena Rabatto che hanno fornito preziosi contributi ed importanti approfondimenti al nostro documento programmatico io mi sono sempre battuta nel mio lavoro di infermiera per stimolare la condivisione la partecipazione e l'impegno sociale di chi come me ha il compito di tutelare la salute delle persone ed è per questo che sono entusiasta di essere protagonista insieme a voi tutte e tutti di questo percorso che la CGL ha avviato in questi giorni l'emergenza pandemica ci ha fatto comprendere l'importanza del welfare e del servizio sanitario nazionale che hanno mostrato tutte le loro fragilità determinate dalle politiche neoliberiste di definanziamento di tagli inarrestabili al personale di frammentazione territoriale organizzativa di marginalizzazione dei processi di condivisione e partecipazione democratica ma soprattutto di inasprimento del conflitto tra operatori e cittadini e purtroppo anche tra gli operatori stessi che si sono ritrovati divisi e smarriti da logiche corporative oggi siamo consapevoli che è necessario recuperare una nuova prospettiva organizzativa che partendo dal territorio e dai distretti si sviluppi secondo principi di prossimità e di presa in carico socio-sanitaria della cittadinanza la terza S del servizio socio-sanitario nazionale che abbiamo inserito nelle proposte del nostro position paper rappresenta una sfida di innovazione organizzativa che lanciamo alle istituzioni del nostro paese nei focus tematici che hanno caratterizzato le prime tappe del nostro viaggio collettivo abbiamo appreso che per rilanciare l'integrazione socio-sanitaria è prima di tutto necessario recuperare la cultura della coesione sociale come fondamento di una società inclusiva e partecipata oggi siamo consapevoli che per realizzare il nostro sogno e per volare alto senza rischiare che però tutto rimanga un sogno appunto sono necessarie le basi solide dei pilastri fondanti in nostro servizio socio-sanitario nazionale equità universalità solidarietà e laicità così come è necessario recuperare il protagonismo dei due attori principali del sistema cittadini ed operatori in questo senso il territorio in tutte le molteplici forme in cui si esplica l'attività sanitaria e socio-sanitaria è il luogo per eccellenza dove realizzare processi di partecipazione democratica e dove può avvenire una valorizzazione del lavoro in cui l'integrazione la contaminazione la condivisione del confronto siano alla base di un programma che attraverso l'equipe professionale esprima le cellule strutturali e vitali di una più ampia organizzazione per una presa in carico multiprofessionale o interprofessionale della complessità biopsicosociale della persona ma anche come fattore protettivo per gli operatori sanitari dallo stress lavorativo quasi sempre riconducibile all'isolamento e all'assenza di confronto e condivisione il territorio è anche il luogo in cui la partecipazione dei cittadini e una diversa integrazione collaborazione con il terzo settore e il volontariato può e deve e deve trovare un nuovo modo di svilupparsi non più basato sul risparmio ma basato su un processo di accumulazione di risorse comunitarie e di benessere collettivo il territorio è anche il luogo in cui negli anni si è prodotta la maggior frammentazione dei rapporti del lavoro un lavoro che va ricomposto sia dal punto di vista delle tutele filiera contrattuale sia dal punto di vista dei rapporti di lavoro a partire da una profonda revisione della medicina generale della continuità assistenziale e della specialistica ambulatoriale così come è importante che il nuovo paradigma della presa in carico trovi un suo riscontro unitario all'interno della filiera formativa delle professioni sanitarie è necessario recuperare una visione organizzativa e gestionale complessiva unitaria ed uniforme che si sviluppi in modo integrato su diversi direttrici strutturali e funzionali il distretto come cornice strategica polifunzionale all'interno della quale ricostruire un nuovo paradigma della presa in carico all'insegna della multiprofessionalità e multisettorialità e nel quale si possa agire su tutti i determinanti di salute le case della salute luogo dell'integrazione socio-sanitaria in cui H24 possa avvenire la presa in carico secondo una logica di iniziativa proattiva uscire dall'eterna sperimentazione per arrivare a finanziare con continuità i livelli essenziali di assistenza ripensare il sistema della residenzialità extraospedaliera e dell'assistenza sanitaria residenziale e semi-residenziale in modo omogeneo sul territorio agendo sulle normative di autorizzazione accreditamento e convenzionamento identificando i parametri soprattutto gli standard assistenziali aumentare la componente sanitaria e soprattutto di direzione sanitaria far sì che l'applicazione del nostro contratto collettivo nazionale di lavoro sia resa cogente infine potenziare l'assistenza domiciliare anche attraverso il monitoraggio delle risorse finanziate nel decreto rilancio ad oggi non abbiamo standard assistenziali e livelli essenziali di assistenza che possano garantire uniformità ed accessibilità ma una situazione che al contrario è fortemente disuguale nel paese valorizzare il ruolo dell'infermiere di famiglia e di comunità dentro il distretto e in stretta collaborazione con tutto il sistema delle cure primarie a partire dai medici di medicina generale quindi distretto case della salute residenzialità e assistenza domiciliare in conclusione proponiamo che per passare dal modello della divisione e dell'attesa a quello dell'integrazione sociosanitaria e della presa in carico è indispensabile garantire una governance la più unitaria possibile sia nella gestione dei servizi che nel coordinamento dei casi clinici e delle equipe multiprofessionali gli operatori come protagonisti principali di un sistema integrato devono poter operare in un perimetro organizzativo e contrattuale che facendo riferimento alle medesime unità gestionali si muovano in modo coordinato e coeso per garantire fluidità e continuità nella risposta ai bisogni di salute della cittadinanza è per noi prioritario promuovere la cultura dell'integrazione degli operatori il dialogo delle istituzioni Stato Regioni Comuni attraverso cui realizzare appunto la terza S un vero servizio socio-sanitario nazionale ma soprattutto sono necessarie regole buone pratiche risorse finanziarie e personale per passare dalla retorica delle parole ai fatti concreti grazie 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 ad Erika Zaccaria e intanto salutiamo il ministro della salute Roberto Speranza lo invitiamo ad accomodarsi sul palco mentre ovviamente procediamo all'igienizzazione dei microfoni nel frattempo si prepara l'ultimo degli interventi che ci racconterà questo percorso sviluppato dalla funzione pubblica che è quello di Simone Emazza delegato sindacale un infermiere presso la ULS 9 Scaligera di Verona e che ci parlerà dei bisogni di salute e cura nei luoghi della vita l'integrazione socio-sanitaria la salute di comunità ovviamente ci sono i fotografi c'è la stampa e in questo modo ci prepariamo anche alla seconda parte di questa mattinata che sarà quella del dibattito del confronto tra il segretario generale della CGL Maurizio Landini e il ministro Roberto Speranza moderato dal giornalista Riccardo Iacona ci siamo quasi Simone Mazza può iniziare ad avvicinarsi per questo che è l'ultimo degli interventi che chiude la prima parte della mattinata Buongiorno a tutti nella mattinata di ieri si è svolto l'ultimo dei tre incontri preparatori in vista dell'iniziativa di oggi è stata un'occasione molto interessante per discutere del tema dei bisogni di salute dell'integrazione socio-sanitaria e della salute di comunità l'emergenza Covid-19 non è stata e non è solo una questione strettamente sanitaria per fronteggiarla e superarla la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ha raccomandato un sostegno globale alla persona che tenga conto non solo degli aspetti di cura ma anche degli aspetti sociali delle persone reddito istruzione casa lavoro ambiente e relazioni umane l'epidemia ha evidenziato come non ci non ci si possa dimenticare che le principali cause di morte e malattia e di disagio sono legate alle cronicità e che questo riguardi proprio le persone più esposte alla stessa epidemia da Covid-19 quelle più vulnerabili individui con malattie croniche disabili con disturbi mentali con dipendenze patologiche non autosufficienti e in generale con fragilità persone che esprimono bisogni di cura quotidiana continua sanitaria e sociale insieme situazioni che è del tutto inappropriato affrontare solo con l'ospedale e con la logica del posto letto e che per quanto ci riguarda essendo noi un grande sindacato confederale non possiamo ignorare dobbiamo affrontare i bisogni di salute e di cura nei luoghi della vita questo è il vero welfare di prossimità la salute di comunità per questo la priorità assoluta è il potenziamento del welfare socio-sanitario territoriale ma non basta occorre affermare un modello di salute di comunità organizzando una solida rete di servizi diffusi e visibili nel territorio la casa della salute nel distretto ci vogliono progetti individuali con una ben più forte integrazione tra interventi sociali e sanitari con servizi e professionisti che operano nei contesti di vita quotidiana che agiscono in multidisciplinarità con la partecipazione dei cittadini per questo è necessario superare le derive aziendalistiche e la logica della fattura per prestazione un welfare pubblico e universale questo orientato decisamente a far vivere e a curare le persone non in luoghi separati come spesso accade nelle varie forme della cosiddetta residenzialità pesante con le persone anziane disabili con problemi di salute mentale e di dipendenze ma il più possibile a casa propria o in soluzioni abitative supportate piccole ben inserite nei contesti urbani e di vita sociale questo modello di salute e di comunità già praticato in alcune realtà italiane come abbiamo visto nel seminario di ieri mattina implica un cambiamento risorse personale formazione nuove organizzazioni del lavoro nuove relazioni tra aziende sanitarie e comuni nuove tecnologie anche nel territorio un cambiamento che va sollecitato e contrattato con le organizzazioni sindacali ad ogni livello è questo che come categoria e come confederazione chiediamo con forza a tutte le nostre controparti per dare forza a questo modello bisogna usare bene i finanziamenti europei per il rilancio del nostro welfare socio-sanitario infine la diffusione delle nuove tecnologie è decisiva per la telemedicina telespecialistica teleassistenza per semplificare l'accesso ai servizi prenotazioni e refertazioni online bisogna però andare oltre il terreno più esplorato quello dell'assistenza ospedaliera con una visione che preveda tecnologie digitali per un welfare di comunità integrato fra sanità e sociale e sia orientato alla persona per tutti questi motivi bisogna dare gambe a processi che collochino sul territorio in prossimità delle cittadine e dei cittadini il perno attorno al quale ruota tutta la filiera dei servizi della prevenzione alla cronicità in questo senso diventa cruciale l'attivazione generalizzata e l'operatività reale delle case della salute che devono costituire per i cittadini riferimento di reale prossimità luoghi aperti fruibili diffusi e facilmente accessibili dove è presente e portato a unità tutto il mondo professionale relativo dalla medicina generale alla specialistica agli infermieri di comunità i terapisti gli assistenti sociali e così via a questo scopo vanno ridefiniti standard strutturali e organizzativi essenziali validi su tutto il territorio scegliere il territorio come perno può consentire di deflazionare i pronti soccorsi che pagano con un elevatissimo numero di accessi impropri le disfunzioni del sistema della medicina generale che per noi si possono risolvere uscendo progressivamente dal convenzionamento e facendo rientrare gradualmente la medicina generale e la specialistica ambulatoriale nel perimetro della dipendenza la rete ospedaliera del nostro paese è la rappresentazione plastica di come non possa funzionare un mix legislativo fatto di tagli lineari agli organici ai posti letto di disinvestimenti progressivi sull'edilizia sanitaria e sulle tecnologie ciò significa che se da un lato non si può tornare indietro nel tempo in tema di piccoli ospedali ad alto rischio di inappropriatezza dall'altro però è urgente una verifica ed un aggiornamento complessivo del decreto Balduzzi che stabilisce vincoli rigidi sul numero dei posti letto per abitante che hanno portato il paese sotto la media europea l'assistenza domiciliare integrata in tutte le sue diverse intensità e forme è parte fondamentale dell'assistenza distrettuale è la vera alternativa all'istituzionalizzazione in particolare per la non autosufficienza è il legame imprescindibile tra ospedale e territorio è il modello organizzativo polispecialistico e multiprofessionale all'interno della casa della casa della salute attraverso il quale si realizza la presa in carico dell'assistito anche attraverso il coinvolgimento dei care givers familiari questi sono alcuni degli stimoli importanti che sono usciti durante la discussione di ieri e che mi sento di lasciare al nostro confronto di oggi nella consapevolezza di come risulti indispensabile dalle analisi che abbiamo fatto insieme una sempre maggiore integrazione fra sociale e sanitario per far sì che i professionisti del sistema sanitario nazionale dei comuni del privato del privato sociale possano lavorare insieme il che in buona sostanza vuole dire creare sul servizio sul serio il servizio socio sanitario nazionale che sta alla base dello slogan della nostra iniziativa di oggi grazie ringraziamo anche Simone Mazza io voglio fare un appello a tutti voi siete molto disciplinati siatelo sempre ancora di più vi faccio vedere qui c'è il kit anti-covid che vi è stato distribuito utilizzatelo soprattutto rimanete seduti per garantire le distanze di sicurezza e quindi il rispetto della normativa anti-covid qui sul palco ci sono le avete visti le abbiamo presentati Maurizio Landini segretario generale della CGL il ministro della salute Roberto Speranza e il giornalista Riccardo Iacona ma ci sono anche altri tre lavoratori che vogliamo invitare a salire e sono tre lavoratori che Riccardo glielo permetterai dovranno un po' rompere il ghiaccio proprio con il ministro Roberto Speranza a loro lasceremo fare le prime tre domande al ministro perché ci sono delle richieste da fare il mondo della sanità e del lavoro della sanità delle richieste da fare e quindi le ascolteremo però nel frattempo ci rinfreschiamo un po' la memoria ricordando qual è il nuovo patto per la salute che chiedono i lavoratori e le lavoratrici di questo settore quindi di nuovo riguardiamo il video un new deal per la salute mentre si accomodano sul palco per l'appunto Erika Salvioli Tamara Vincenti e Sabrina Leto riformare il servizio sociosanitario si può e si deve dovremmo convivere per un periodo indefinito con il coronavirus la pandemia ha mostrato lo straordinario valore delle lavoratrici e dei lavoratori che si occupano della nostra salute ma anche i limiti del nostro servizio sociosanitario un new deal per la salute un progetto per dare innovazione e qualità al servizio sociosanitario nazionale un nuovo corso per la salute che valorizzi le esperienze positive di questa prima fase dell'emergenza e risolva i problemi cronici che ci trasciniamo dietro la nostra proposta è un sistema sociosanitario che si prenda cura delle persone per l'intero arco della vita un servizio per la comunità vogliamo mettere la persona al centro e rendere il territorio il centro della cura con le case della salute i servizi di prossimità e i professionisti di comunità bisogna potenziare i servizi di prevenzione e di protezione ambientale perché gli ospedali non siano l'unico luogo di cura e i pronto soccorso tornino alla loro funzione originaria servono più posti letto spazi e risorse per la continuità assistenziale la medicina scolastica una nuova dimensione per le cronicità e le cure domiciliari vogliamo i medici di famiglia assunti dal servizio sanitario nazionale più risorse e nuove regole in dieci anni la sanità ha subito tagli per 37 miliardi di euro e tutti abbiamo visto i risultati la logica dei costi standard e dei commissari straordinari non ha funzionato la divisione dei poteri tra governo e regioni non ha funzionato siamo alla vigilia di stanziamenti senza precedenti potremo spendere ma dovremo saper spendere bene dobbiamo investire in personale tecnologie organizzazione del lavoro e dei servizi per mettere in sicurezza il sistema e avviare la riconversione ecologica delle strutture per eliminare le disparità tra territori e garantire il diritto alla salute a tutti un patto istituzionale per rendere esigibili ovunque i livelli essenziali di assistenza più lavoro e più tutelo vogliamo un piano straordinario di assunzioni per chiudere il buco provocato dal blocco del turnover e dai tagli servono medici di medicina generale e specialisti occorre stabilizzare i precari e dare continuità alle assunzioni fatte durante l'emergenza partendo dalle graduatorie esistenti e garantendo formazione diritti e strumenti per un uguale lavoro vanno garantiti uguali diritti vogliamo il rinnovo dei contratti stipendi all'altezza e andare verso l'unificazione fra pubblico privato e terzo settore un nuovo sistema di carriere per valorizzare la multidisciplinarietà e la crescita professionale vogliamo un sistema di regole contro il dumping e per la qualità che promuova il riequilibrio nella gestione perché pubblico è meglio questa è la nostra proposta per una sanità pubblica e universale non me ne vorrà Riccardo Iacona se torno a citare il titolo del suo libro ma è più eroe in corsia perché qui su questo palco ci sono tre persone che avremmo definito ripetutamente eroi proprio nei mesi passati noi vogliamo preferiamo chiamarli lavoratori anzi lavoratrici perché sono tutte e tre donne e lo dico anche perché come si fa sempre quando si preparano queste iniziative ho letto le loro brevi biografie e allora c'è Erika per esempio saldiole a 40 anni è un'infermiera del pronto soccorso dell'azienda USL di Ferrara e dice la mia professione è una parte fondamentale della mia vita è stata una scelta non una casualità un po' come accade sempre in questo settore e allora vorrei che fossero proprio loro le prime a fare le domande al Ministro della Salute Roberto Speranza iniziando proprio da Erika Erika qual è la tua domanda per il Ministro? Innanzitutto volevo ringraziare la funzione pubblica la CGL per questa grande opportunità il Ministro Speranza per essere qui con noi perché la sua presenza per noi è un sinonimo di impegno e di interesse ma soprattutto le persone che sono qui oggi di fronte a noi perché anche loro con la loro presenza dimostrano il contributo importante che vogliono dare per questo nuovo sistema sociosanitario ma il ringraziamento più grande lo voglio fare a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori che ogni giorno garantiscono il diritto alla salute di tutti noi un diritto garantito dalla nostra sana e robusta Costituzione Donne e uomini che da sempre rappresentano l'elemento più importante la grande forza del nostro servizio sociosanitario vorrei sottolineare da sempre noi non vogliamo essere identificati come eroi facciamo ogni giorno il nostro lavoro con il massimo impegno quello che abbiamo fatto durante l'emergenza covid in realtà è quello che facciamo tutti i giorni e che faremo ogni giorno per questo non vogliamo nessun premio per quello che abbiamo fatto perché ripeto che è il nostro lavoro noi vogliamo essere valorizzati per quello che facciamo tutti i giorni questo lavoro lo abbiamo scelto come abbiamo scelto durante l'emergenza di mettere davanti a tutto il bene del paziente come abbiamo fatto durante il terremoto lavorando 24 ore continuative senza accorgersene e soprattutto senza sapere nulla dei nostri familiari a casa come facciamo durante le emergenze neve rimanendo a dormire in ospedale per garantire la presenza al turno successivo e come hanno fatto tanti nostri colleghi che hanno deciso di non vedere i propri figli per settimane per difenderli da questa epidemia per cui oggi in questa piazza di fronte a lei Ministro Speranza chiediamo che venga riconosciuto il valore di quello che facciamo tutti i giorni attraverso il contratto collettivo nazionale ma in particolare attraverso la ricostruzione del sistema di valorizzazione sottolineo ricostruzione e non ristrutturazione perché il sistema di classificazione oggi esistente non risponde più alla grande crescita culturale formativa e al bisogno di sviluppo professionale i vincoli del Ministero dell'Economia e della Finanza hanno stretto in una morsa la contrattazione integrativa i fondi della contrattazione integrativa infatti non possono essere aumentati e oggi paradossalmente ci troviamo nella condizione per cui aumentare le dotazioni organiche in presenza di questi vincoli ha come conseguenza la diminuzione del salario accessorio di tutti noi oggi ci sono persone che lavorano nel servizio sanitario da più di vent'anni e che non vedono valorizzato il proprio lavoro le indennità che valorizzano per esempio il lavoro notturno sono ferme al 1992 così come tante altre indennità oggi non corrispondono più alla complessità assistenziale richiesta dopo questo primo esempio un secondo è quello del personale che svolge funzioni sanitarie ma che oggi è inquadrato ancora nell'area tecnica e parlo degli OS degli assistenti sociali e degli autisti soccorritori del 118 questo per loro significa non poter accedere agli sviluppi economici che per il momento sono di competenza dell'area sanitaria eppure fanno un lavoro sanitario un terzo esempio è quello del settore tecnico-amministrativo che oggi si misura nella definizione di procedimenti in un quadro normativo talmente complesso come per esempio gestire concorsi e gare e si deve prendere una responsabilità elevatissima senza possibilità di alcun riconoscimento e infine le professioni sanitarie elemento di indiscutibile valore del sistema che negli ultimi vent'anni hanno maturato una crescita esponenziale dal punto di vista formativo e del loro lavoro che svolgono all'interno dell'organizzazione ma cui non è corrisposta una crescita altrettanto importante della valorizzazione economica per tutti invece vale il sistema delle progressioni e in realtà questo sistema deve essere più preciso deve essere un sistema di classificazione che deve unire e non dividere è per questo che noi lo immaginiamo dentro un contratto unico della sanità l'integrazione delle professioni è alla base della presa in carico del paziente ed è l'insieme del valore di ogni singola professione e non certo della loro somma parlavo di progressioni le voglio fare questa riflessione ministro le progressioni verticali e orizzontali diciamo che oggi sono l'unico sistema di crescita e di valorizzazione ma oggi è come entrare in un labirinto pieno di strettoie dal quale uno si sente sempre al punto di partenza anche dopo vent'anni di lavoro un sistema che deve cambiare che deve permettere di valorizzare l'esperienza la formazione lo sviluppo professionale e organizzativo un sistema che richiede un investimento straordinario aggiuntivo al rinnovo contrattuale è inimmaginabile pensare con le risorse stanziate per il rinnovo contrattuale che già a nostro avviso non sono sufficienti si possa anche ricostruire il sistema di classificazione a cui serve ripeto un investimento dedicato parlavo anche di integrazione delle professioni perché invece altri pensano a dividerle noi invece non diciamo questo noi siamo la CGL e per noi l'unione è alla base di tutto sviluppo e valorizzazione professionale per noi significa miglioramento della presa in carico dei pazienti sviluppo e valorizzazione professionale per noi significa miglioramento della qualità dei servizi e soprattutto la garanzia di un servizio sanitario nazionale universale pubblico adesso le le pongo questa riflessione più che una domanda le chiediamo un impegno un impegno nel liberare il servizio sanitario nazionale dai vincoli che oggi ci sono da parte del ministero dell'economia e della finanza perché per noi vengono prima le politiche sanitarie e di conseguenza quelle economiche e finanziarie non il contrario grazie è un bell'impegno ministro Speranza se lo prende me lo prendo con grande piacere per la verità credo di averlo già da da questi dall'inizio di questa esperienza e intanto grazie grazie per questo invito per la possibilità di poter ragionare con voi stamattina del futuro del nostro paese perché quando parli di sanità pubblica stai parlando del cuore del futuro del nostro paese grazie Maurizio e sono convinto che dobbiamo insieme provare a trarre lezione da questi mesi così difficili e costruire un orizzonte forte di cambiamento rispetto alla sanità italiana perché è vero che abbiamo un servizio sanitario che ha retto nei mesi più difficili e che ora sarà chiamato come vedete ad una nuova prova che non è mai scontata mai facile che quindi richiederà ancora l'impegno di tutti noi ma è evidente che dobbiamo cambiare marcia rispetto a una stagione troppo lunga in cui la sanità è stata il bancomat da cui prendere risorse anziché il luogo straordinario dove mettere risorse per fare investimenti e io penso che la base di tutto ciò debba necessariamente essere un salto culturale voglio essere breve anche per favorire tutti gli altri interventi ma il punto di fondo è esattamente quello dobbiamo finirla di considerare i soldi che si mettono sulla salute come semplice spesa pubblica e dobbiamo invece considerarli il più grande investimento sulla qualità della vita delle persone e la verità dell'ultimo quindicennio è che la quantità di diritto alla salute che si poteva garantire dipendeva dalle tabelle degli uffici di chi fa il bilancio dalle tabelle Excel io penso che debba essere esattamente il contrario e cioè la quantità di diritto alla salute che tu devi garantire che scrive le tabelle Excel purtroppo per troppo tempo è avvenuto il contrario per chiudere velocemente questo è il cuore della vicenda personale la vicenda personale è il cuore di queste cose che sto provando a dire perché a me non piace la retorica degli eroi per me ascoltare queste parole è musica diceva Bertolt Breck beati popoli che non hanno bisogno di eroi io credo che noi dobbiamo fare esattamente l'opposto non cercare eroi ma coltivare virtù antieroiche cioè non gente che ha la bacchetta magica il miracolo facile tutti i giorni se ne vedono tanti anche purtroppo nel mondo della politica ma persone serie per bene rigorose che fanno dalla mattina alla sera semplicemente il proprio dovere questo sono state le donne e gli uomini del servizio sanitario nazionale e per questo siamo grati per il contributo straordinario però in un istante quanta differenza c'è quanta distanza c'è Riccardo tra la retorica degli eroi e le norme vigenti le norme vigenti per un quindicennio hanno detto che le risorse che si potevano investire sulla cosa più preziosa che abbiamo e cioè le risorse umane del nostro servizio sanitario nazionale erano bloccate ai soldi investiti nel 2004 meno l'1,4% cioè noi da una parte diciamo gli eroi però da un'altra parte abbiamo una regola vigente per 15 anni che abbiamo rotto soltanto negli ultimi mesi sostanzialmente che dice che tu non puoi mettere sulle donne e gli uomini del servizio sanitario nazionale più di quello che spendevi nel 2004 meno l'1,4% è una follia non trovo un'altra parola per descriverlo la popolazione è sempre più anziana i bisogni crescono sempre di più la domanda dei cittadini è sempre crescente e l'arma che tu hai per dare risposta a questi bisogni cioè le donne e gli uomini purtroppo sono dentro una camicia di forza perché una regione che vuol mettere dei soldi in più per i contratti per le assunzioni per gli investimenti non li può mettere perché c'è questa norma allora io penso e mi fermo per questa prima domanda che questo sia il cuore della prossima sfida noi dobbiamo rompere il modello di programmazione della spesa sanitaria fatto per silo schiusi e tetti di spesa e costruirne un altro orizzontale di accompagnamento delle esigenze della vita delle persone da quando nascono fino alla fine della loro esistenza capace di puntare fino in fondo sulle donne e gli uomini della nostra sanità grazie ringrazio il ministro Speranza per questa prima risposta e a questo punto io farei intervenire nell'ordine Tamara Vincenti e Sabrina Leto una un'operatrice socioassistenziale l'altra una delegata per la funzione pubblica CGL presso la USL Toscana Centro chiedo come dire domande interventi brevi in maniera che così poi Riccardo può facilmente diciamo posso facilmente passare il testimone a Riccardo che proseguirà nel confronto con il ministro Speranza e il segretario generale della CGL Maurizio Landini Tamara Vincenti cari compagni e cari compagni segretario e ministro come avete sentito sono un'operatrice socioassistenziale condivido appieno tutti i temi trattati e proposti dei miei colleghi sul servizio sociosanitario nazionale e la mia esperienza che parte dal terzo settore e che ad oggi è ferma alle cooperative sociali da sempre come RSA prima e come RSU dopo mi spinge a promuovere l'auspicio di essere messi in condizione di operare bene sul proprio posto di lavoro di poter quindi essere efficienti e professionali valorizzando così la cura nei luoghi della vita e l'assoluta necessità di investire nella formazione le figure che operano per conto delle cooperative sociali svolgono esattamente le stesse mansioni avendo le stesse competenze di coloro che lavorano nel pubblico e davvero risulta difficile accettare la netta differenza che esiste fra due comparti i diritti i doveri e il compenso salariale non dovrebbero forse essere equiparati molto spesso gli operatori di cooperative sociali non hanno contratti adeguati e io stessa signor ministro ne sono un esempio perché sono costretta a lavorare per due cooperative differenti per raggiungere un numero di ore che mi consenta di percepire uno stipendio dignitoso costringendomi così a condurre da madre una vita piena di molteplici sacrifici e privazioni il mio lavoro gratifica gratifica tanto essere portatore di sorrisi è quanto di più bello possa esistere nella vita durante l'emergenza covid siamo stato tutto per i nostri ragazzi siamo stati la loro famiglia i loro amici solo per ultimo i loro operatori nei loro occhi noi vedevamo solo forza speranza e amore quell'amore incondizionato che permette di nutrirsi di quei valori veri che ti portano ad andare avanti nella vita tutti gli operatori del servizio sociosanitario hanno operato annullandosi per donare senza minimamente farsi sobraffare dalla paura e da tutto il resto e molti di loro come ringraziamento hanno avuto un trattamento irriguardoso rimanendo senza lavoro ad emergenza finita ecco io mi chiedo se veramente non siamo al punto di dover mettere veramente al centro di ogni nostra discussione di ogni nostra proposta o altro il vero valore della persona non possiamo più essere considerati numeri come se fossimo merce di grandi aziende appartenenti alla grande distribuzione esprimo un altro punto di prioritaria importanza che mi sta molto a cuore ed è quello di fare rete intorno agli utenti che hanno bisogno dei servizi residenziali e assistenziali e soprattutto alle loro famiglie capita spesso infatti di trovarsi davanti a situazioni dove le famiglie di ragazzi disabili si trovano completamente sole abbandonate perché non basta erogare loro un assegno mensile sollevandosi così da ogni responsabilità bisognerebbe accompagnarli dalla presa in carico a tutto il percorso necessario perché mai nessuno dovrebbe essere lasciato solo pensiamo infatti a quanto possa essere difficile per una famiglia scegliere di affidare il proprio caro alle cure di una struttura specializzata il supporto psicologico è di primaria necessità ed importanza credo e concludo che sia veramente arrivato il momento di valorizzare appieno l'importanza di tutto il comparto del servizio socio-sanitario nazionale con una particolare attenzione a noi operatori di cooperative sociali e come domanda più che domanda lancerei una provocazione e dico dopo aver attraversato questo periodo così difficile e complesso e dopo aver lavorato senza sosta pronti a rimetterci nuovamente al servizio senza paura e con la dedizione di sempre e dopo essere passati ahimè da eroi a numeri abbandonati chiedo forse o forse credo sia più opportuno che la domanda dovrebbe farsela il nostro governo perché l'Italia da sempre dimostra di essere un paese umano e solidale e allora forse è arrivato anche il momento di valorizzare questo potenziale che abbiamo la provocazione la provocazione di Tamara Vincenti la lasciamo nelle sapienti mani di Riccardo Iacona e nel frattempo però andiamo a prenderci probabilmente un'altra provocazione sicuramente altre domande che vengono da Sabrina Leto che è un'infermiera è una delegata della funzione pubblica CGL presso la USL Toscana Centro buongiorno a tutti buongiorno Ministro innanzitutto voglio per iniziare voglio ricordare tutti quegli operatori sanitari che sono morti a causa del Covid-19 e voglio dare un abbraccio caloroso alle loro famiglie come sappiamo tutti abbiamo detto finora la pandemia ha messo a dura prova il servizio sanitario nazionale e dico anche il servizio sanitario regionale perché ricordiamoci che in Italia abbiamo diversi modelli di sanità regionale che spesso sono regolamentati da decisioni politiche rispetto invece ai veri bisogni di salute dei cittadini questa pandemia ha messo in evidenza le criticità le debolezze del sistema sanitario che c'erano prima del coronavirus e voglio dire che se il sistema sanitario è retto e ha superato oggi la prima fase per fortuna speriamo di non ritornare nuovamente indietro è stato per la forte abnegazione di tutto il personale sanitario e non voglio ricordare anche le persone che lavorano alla significazione degli ospedali che ultimamente era un argomento rimasto indietro appaltato lasciati soli il personale sanitario come sapete tutto si è cimentato in questa emergenza come se andasse un po' in trincea non avevamo i dispositivi di protezione individuale le mascherine all'inizio le tute ad alto contenimento del rischio però ci siamo rimboccati le maniche e siamo andati avanti abbiamo in poco tempo allestito checkpoint nei pronti soccorso abbiamo raddoppiato le terapie intensive siamo riusciti ad entrare nell'RSA per andare a vedere come i pazienti venivano curati e cercare di limitare l'insorgenza di nuovi focolai abbiamo anche implementato il servizio di prevenzione territoriale garantendo la sorveglianza dei pazienti covid al proprio domicilio siamo alla fase 2 come ho detto prima sperando di non ritornare alla fase 2 in quasi tutte le regioni in questo periodo sono state fatte delle assunzioni abbastanza numerose ma non sufficienti ancora perché comunque ricordiamoci che sono stanno queste assunzioni verranno assorbite dal turnover dei pensionamenti abbiamo sono stati in particolare assunti infermieri os assistenti sanitari oltre al personale medico ma voglio lanciare anche una mano a tutto quel personale sanitario precario che è stato assunto attraverso le agenzie interinali queste assunzioni hanno seguito un'iter emergenziale in deroga ai tetti di spesa per il personale previsti fino ad ora infatti come lei prima ministra ha ricordato siamo fermi al 2004 meno 1,4 ma è anche vero che ci sono il tetto dei fondi regolato dal decreto Madia che fissa la spesa storica al 2016 questo impedisce la necessaria dinamica di implementazione dei fondi contrattuali che hanno avuto un modestissimo aumento con il contratto 2016-2018 ma tuttora insufficienti a riconoscere una valorizzazione economica del personale che ha dimostrato ulteriormente di garantire la presa in carico e l'assistenza alla persona in qualsiasi contesto organizzativo della sanità pubblica inoltre le circolari del MEF e del Ministero della Funzione pubblica in applicazione alla legge Brunetta peggiorano ulteriormente le contrattazioni aziendali anche se le risorse aziendali sono presenti noi ministro vorremmo una risposta vorremmo rivedere e riformulare in base alle nuove esigenze professionali e standard qualitativi il decreto Madia vogliamo mettere al centro il professionista e valorizzarlo sia per le competenze acquisite sia per la complessità organizzativa in cui lavora e per le responsabilità individuali rispetto al ruolo che svolge in questa emergenza come vi ho detto prima si è allargata la forbice della precarietà anche in sanità pubblica forme di flessibilità e precariato con contratti spesso senza tutele e senza prospettive i colleghi precari ministro hanno affrontato mesi difficili di disagio di preoccupazione e forte impatto emotivo hanno affrontato mesi di continui cambiamenti organizzativi che hanno messo in difficoltà anche il personale più esperto sono stati inseriti in contesti organizzativi come pronti soccorso le terapie intensive e a volte però considerati dall'azienda solo come un numero intescambiabile e non come professionisti e persone è grazie anche a loro che il sistema sanitario ha reddo è necessaria una riforma del sistema sanitario nazionale attraverso un piano sanitario nazionale scaduto ormai da molto tempo e l'ultima cosa che le chiedo che la riflessione che le riforme potranno essere fatte solo se ci saranno risorse umane ed economiche chiediamo quindi un piano straordinario di assunzioni in deroga tetti di spesa e la stabilizzazione di tutti i precari e allora la parola adesso a Riccardo Iacona per moderare il confronto e anche sottoporre queste domande al ministro bene intanto già sono uscite cose molto interessanti che diciamo ci chiamano a riflettere su una vera e propria riforma del servizio sanitario nazionale che spero e immagino che sarà obiettivo del governo nei prossimi mesi nel prossimo anno avvenire ma se posso riassumere diciamo un po' le ultime due domande e farle diventare un po' concrete per il ministro in fondo i nostri delegati ci chiedono che cosa possiamo fare perché le iniziative prese in emergenza di aumento del personale per sostenere diciamo la trincea che doveva contenere l'epidemia non ricaschino sotto la tagliola dei tagli di bilancio e possano essere mantenute anche nei mesi e negli anni a venire in attesa che si faccia la riforma più diciamo globale del servizio sanitario nazionale ma io penso che i mesi del virus ci lasciano una nuova grande consapevolezza a livello di opinione pubblica anche a livello di governi penso ad esempio alle risorse senza precedenti che possono arrivare dall'Unione Europea se mi avessero raccontato 12 mesi fa che c'erano investimenti di questa natura probabilmente non ci avrei creduto io stesso ma nessuno degli opinionisti poteva prevedere un cambio così radicale e ora si tratta appunto di provare a rovesciare quella che è una grande crisi in un'opportunità dirlo è facile praticarlo sarà molto più complicato ma questa è la sfida ed è una sfida che ha dalla sua parte una profonda consapevolezza è una profonda consapevolezza io dico diffusa a partire diciamo dalle persone cioè le persone dentro questa crisi hanno assunto a livello addirittura personale direi la necessità di dover difendere alcuni beni pubblici fondamentali e la salute e il servizio sanitario nazionale sono un bene pubblico fondamentale qual è la verità torno al punto per me decisivo e per molti anni si è consolidata un'opinione diffusa che poi a tratti è diventata quasi un'ideologia utilizzo una parola forse un po' vecchia un po' impegnativa ma è stata quasi un'ideologia cioè il pensiero che il mercato potesse risolvere tutto da solo e purtroppo quest'ideologia che è nata a destra ha parlato ed entrata anche largamente diciamo in un campo più democratico più progressista ed era l'idea che il mercato potesse risolvere tutto che alla fine ci fosse una mano magica invisibile che potesse poi risolvere tutti i problemi e questa storia invece drammatica del virus ci dice che non è così ci dice che serve lo Stato servono le organizzazioni servono le associazioni serve la sussidiarietà e serve un impegno pubblico a difesa di beni fondamentali che non possono essere lasciati in mano al mercato perché di fronte al fatto che un cittadino sta male ci deve essere la Costituzione le leggi e lo Stato che ti garantiscono che quella persona venga difesa e allora io penso che oggi ci sia la possibilità di un cambio di marcia dentro una nuova condizione le parole che sto dicendo cioè il primato dei beni pubblici fondamentali oggi sono molto più solide molto più attuali per la prima volta mi verrebbe da dire Maurizio ci troviamo non controvento dopo molti anni in cui siamo stati controventi e per questo bisogna battere il ferro e usare in maniera intelligente le risorse che ci sono perché poi il tempo passa possono cambiare le dinamiche possono succedere altre cose ma oggi c'è una straordinaria opportunità per entrare ancora solo per un istante nel merito mi scuserete quando io dico che dobbiamo superare un modello di programmazione della spesa che abbiamo da 15 anni in sanità costruita per silos chiusi e tetti di spesa non lo dico solo perché penso che sia un modello sbagliato ma lo dico anche perché penso che sia un modello che produce illusione di risparmio non produce neanche risparmio voglio fare due esempi quanti soldi non mi fanno mettere in prevenzione e poi ripagheremo tra 5 e 6 7 anni in pensioni in validità per esempio la vita delle persone non è fatta per silos chiusi e tetti o ancora per toccare l'argomento che tu hai voluto diciamo mettere sul tavolo e che è molto delicato si è stato fatto questo silo schiuso della spesa del personale col tetto a quello che si spendeva nel 2004 meno 1,4% a un certo punto gli ospedali le strutture sanitarie avevano per forza bisogno di prendere persone altrimenti non reggevano più e abbiamo visto che è salita negli anni in sanità la spesa in beni e servizi ma che spesa era alla fine era una spesa sul rettizia sul personale solo che mentre se la tieni di qui io controllo i diritti di quei lavoratori se me la metti di là io non li controllo più e allora io mi fermo ma penso che noi siamo veramente ad un passaggio decisivo lo dico diciamo da cittadino prima ancora che da ministro questa è la più straordinaria occasione che noi abbiamo perché c'è un clima di grande consapevolezza e oggi è difficile dire no a chi si alzerà e si alzerà spero insieme a voi per chiedere più soldi in maniera strutturata strutturale definitiva per il servizio sanitario nazionale dobbiamo sfruttarla questa occasione in passato sono state fatte riforme e mi fermo in tempi in cui c'erano meno risorse fare una riforma in un momento in cui hai meno risorse alla fine significa fare tagli è inutile girarci attorno oggi noi abbiamo una grande opportunità perché possiamo immaginare una riforma in un tempo in cui ci sono più risorse questo non è mai avvenuto prima negli ultimi anni e ci consegna una responsabilità stratosferica e anche qua permettetemi di dirlo non basta un ministro non basta un presidente di regione abbiamo bisogno di tutti abbiamo bisogno di un grande patto paese e io sono convinto che la CGL può e deve essere in prima linea dentro questo patto paese perché rappresenta esattamente quella sensibilità quella cultura quella miriade di battaglie che dentro questa sfida possono aiutarci a spostare in avanti gli obiettivi e per questo credo che i prossimi mesi siano davvero fondamentali e che noi dovremmo aprire momenti di dialogo stiamo iniziando a farlo dovremmo renderli chiaramente ufficiali sostanziali abbiamo fatto in queste ore un lavoro importante sul contratto della sanità privata che dopo 14 anni siamo riusciti finalmente a portare a casa si è lavorato insieme perché qui mi fermo davvero se non la faccio lunga e blocco è molto interessante perché il punto è questo dobbiamo vincere la grande battaglia culturale far capire fino in fondo a tutti che il paese riparte se la battaglia sanitaria la vinciamo definitivamente quindi la prima mattonella per ricostruire l'Italia e rafforzare il nostro servizio sanitario nazionale questa è la sfida dei prossimi quindi la riforma del servizio sanitario nazionale farà parte di questi progetti che andranno finanziati con il next generation cioè molto interessante è anche la dimensione del tempo non abbiamo tanto tempo dobbiamo sfruttare questa occasione perché il next generation non sono una finanziaria spalmata per dieci anni è qualcosa che ci arriva per fare delle cose puntute arrivano adesso e non arriveranno mai più questo è condiviso nel governo questa idea assolutamente condiviso e anche qua i numeri contano io l'anno scorso ho fatto una battaglia ventre a terra per avere due miliardi in più sul fondo sanitario nazionale negli anni precedenti c'era un miliardo in più sì e no che arrivava nell'anno in cui sono stato ministro con una battaglia importante e devo dire con l'aiuto con la condivisione del governo del presidente del consiglio del ministro dell'economia che ha una sensibilità su questa materia come il presidente del consiglio abbiamo raddoppiato i soldi in più cioè passare da un miliardo a due miliardi è stata una cosa importante giusta questa volta stiamo parlando di numeri che sono di gran lunga più larghi ed è chiaro che questa è una battaglia che dobbiamo svolgere insieme e per me lo ripeto qui anche in questa piazza ogni euro che viene per la sanità è benvenuto benvenuti i soldi del ricoveri benvenuti i soldi del mess benvenuti i soldi del bilancio purché i soldi ci siano per cambiare marcia bene Randini i soldi del mess si allontanano un po' perché mentre prima c'era tutta una battaglia anche da parte di alcuni esponenti del governo per ottenerli e adesso si è un po' allentato però penso che anche lei è convinto dell'idea che questa è l'occasione del secolo per fare le cose che ci siamo detti oggi che non sono state mai fatte per motivi culturali economici adesso non ci sono più alibi perché abbiamo da fronteggiare un'epidemia che è ancora in corso che ci lancia questa sfida prego innanzitutto voglio ringraziare tutti voi che siete qui la categoria che ha lavorato a organizzare questa giornata perché come vedete e qui diciamo così valorizzo la nostra organizzazione questa è la dimostrazione che noi non siamo un sindacato che pensa semplicemente di tutelare gli interessi di chi rappresenta noi siamo un sindacato che pensa che tutelare gli interessi di chi lavora è la condizione per cambiare questo paese e addirittura le proposte che qui sono state fatte frutto anche del lavoro di questi giorni indicano che abbiamo delle idee precise delle proposte che rivendichiamo di poter discutere con il governo e con le controparti per affrontare questa cosa e vorrei fare due battute una consentitemi ma credo di poter parlare a nome di tutti sentire da questa piazza il ministro della salute quindi un esponente del governo che dice le cose che ha detto è una cosa importante noi fino a poco tempo fa eravamo abituati ad ascoltare chi ci raccontava che il problema era chiudere i porti e mandare via altre persone che semplicemente avevano mentre noi qui stiamo dicendo che il diritto alla salute è un diritto di tutti anche dei migranti che vengono nel nostro paese e questo credo che sia un bel passaggio perché è anche un passaggio culturale quello che dobbiamo affrontare e fare assieme secondo dopo aver detto una cosa bella per il governo vorrei fare anche una sollecitazione giustamente il ministro ricordava che ha firmato il contratto della sanità privata ed è vero che lui direttamente senza girarci attorno ha dato un contributo importante per farlo però lo dico con franchezza ecco siccome dobbiamo rinnovare i contratti in questo paese di più di 10 milioni di persone non vorrei riaspettare altri 14 anni per rinnovare un contratto e lo dico perché naturalmente noi ci auguriamo che già dalla legge di stabilità che si dovrà discutere adesso siano messe quelle risorse che ancora non erano state messe perché noi abbiamo bisogno di andare adesso a un rinnovo dei contratti cioè investire sulla sanità vuol dire investire sul lavoro delle persone perché senza il lavoro delle persone la tutela non c'è e quindi oggi sia la sanità intesa come diritto generale come prevenzione che qui è stata ricordata sia naturalmente come tema che riguarda superare la precarietà nel lavoro e fare le assunzioni oggi è un elemento importante consentitemi credo che sia mio dovere non solo dire quello che sto dicendo adesso noi abbiamo sempre diciamo così visto male chi ci considerava degli eroi perché poi si scordano non so come dire adesso passa un po' il tempo poi si scordano ma vorrei dire che qui è giusto ringraziare non solo quelli come voi nella sanità che hanno lavorato ma vorrei che fosse chiaro per questo non ce lo dobbiamo scordare nei mesi passati se siamo riusciti ad affrontare una situazione così difficile è grazie a quel lavoro essenziale che tante persone hanno messo in campo in tutti i settori di questo paese da quelli che facevano le pulizie a chi teneva aperti i supermercati a chi ci portava via le immondizie a chi ha garantito il lavoro e questo elemento è importante perché culturalmente sono d'accordo con quello che diceva il ministro in questi anni non solo era passata una cultura che il mercato risolveva tutto ma era passata ed è purtroppo passata un'idea anche con provvedimenti legislativi valordi che purtroppo ci sono ancora in cui il lavoro era tornato ad essere una merce che si poteva comprare e vendere senza alcun problema ce lo vogliamo dire in italiano il jobback viene da lì non viene da un'altra parte è stato così in Italia è stato così in Europa e allora oggi è il momento proprio per utilizzare le risorse europee e la possibilità per davvero produrre un cambiamento che noi stiamo per rivendicare di essere coinvolti noi stiamo chiedendo al presidente del consiglio e al governo che ci convochi perché noi vogliamo discutere di sanità ma anche di come si spende l'insieme dei soldi in Europa e della nuova legge di stabilità e perché c'è un collegamento io ascolto anche l'esito dei gruppi di lavoro guardate si parla di circolarità economica no? di circolarità provate a pensare anche alla circolarità sociale quelli che sono intervenuti quando hanno parlato di prevenzione non a caso hanno parlato che la prima prevenzione è non morire sul lavoro non so se è chiaro come concetto e oggi purtroppo questo è un tema che ancora esiste che dobbiamo affrontare e superare questa cosa vuol dire far prevalere l'idea che investire sulla sanità sulla prevenzione sulla sicurezza è appunto un investimento non un costo dall'altra parte la psicologa che lavora nel settore ci ricordava come ad esempio purtroppo è una malattia anche la precarietà perché la precarietà non è solo una malattia perché in genere è in sicurezza ma è una malattia perché peggiora la condizione anche di che è costretto a vivere in termini precari e se ce lo vogliamo dire molto spesso l'incattivimento sociale che c'è le rotture di legami sociali nascono da questo disagio sociale di precarietà in cui le persone sono costrette a combattere con altri che come loro hanno semplicemente il problema di dover vivere e di lavorare per dover vivere e questo allora vuol dire anche affermare un altro punto noi dobbiamo costruire creare nuovi posti di lavoro facendo assunzioni ma guardate che il problema anche qui c'è un cambiamento che dobbiamo fare guardate che il problema è che il lavoro o ha dei diritti o non è un lavoro e quando uno pur lavorando è povero vuol dire che c'è qualcosa che non funziona nel modello in senso generale e che quindi noi lo dobbiamo affrontare e oggi se ci pensate c'è un collegamento perché la prima persona che qui è intervenuta ha ricordato anche un'altra cosa a proposito di circolarità e di valore della salute ha detto basta quartieri come quello di Tamburi e se proviamo anche a rifletterci c'è un rapporto tra il fatto che la malattia colpisse di più i paesi occidentali c'è un rapporto che la malattia a limite colpisse di più determinate zone dove quelli di inquinamento sono più pesanti c'è un rapporto o non c'è un rapporto io penso di sì ma non per cercare un capo espiatorio vorrei essere chiaro ma perché le risorse che noi dobbiamo oggi investire e discutere non solo debbono essere investite sulla sanità come qui è stato detto non solo negli ospedali per rafforzare la prevenzione sul territorio eccetera ma guardate che l'oggetto della discussione di questo paese è come costruiamo un nuovo modello di sviluppo che sia fondato anche su un sistema di produzione ambientalmente sostenibile e che sia in grado di costruire anche un elemento di sostenibilità sociale di quello che fai e di attenzione e questo io credo che sia il punto che noi abbiamo di fronte allora benissimo questo confronto e sono d'accordo non abbiamo altro tempo da perdere non so se è chiaro non è che la dico in battuta venendo da una determinata tradizione ricordo che mio padre quelli che erano più impegnati di me quando uno si lamentava ma non vedo le cose ma ci sarà un domani che costruiremo un mondo migliore ecco io penso che va benissimo avere delle prospettive avere degli obiettivi ma oggi il tema non è semplicemente cosa succederà tra qualche anno e noi dobbiamo perché quello che succederà tra qualche anno dipende da quello che concretamente oggi fai dalle scelte che fai e se introduci oggi un progetto di paese che sia in grado e di Europa che sia in grado di andare in una direzione diversa ecco io credo che sia importante questa cosa e penso anch'io che questo elemento non vada sprecato e aggiungo per chiudere vorrei che fosse chiaro noi non abbiamo solo il problema di spendere bene i soldi europei che sono tanti a parte che c'è una discussione forse il ministro ne sa anche più di noi non è ancora così chiara che si arrivi davvero anche a rifare i trattati europei a costruire anche un'Europa e quindi c'è una discussione da fare ma vorrei ricordare che in realtà noi abbiamo anche la possibilità di utilizzare meglio i soldi che comunque nel nostro paese ci sono no perché se c'è una cosa sono distribuiti in modo diseguale chi lavora purtroppo tante volte è povero ma la ricchezza è aumentata in questo paese non è che è diminuita e si è concentrato in mano a pochi e c'è un punto che noi al governo stiamo chiedendo e cioè vogliamo ricostruire un patto di cittadinanza vero? Allora c'è un tema da cui dobbiamo partire e si chiama riforma fiscale e lotta all'evasione fiscale perché un paese che ha 107 miliardi di evasione fiscale che sono più della metà dei 209 vuol dire che non dobbiamo andare in Europa o in banca a chiedergli basta combattere questa evasione per recuperare le risorse che ci servono per fare ulteriori investimenti sulla sanità sulla scuola sulla formazione su un lavoro sostenibile allora questa è la battaglia che noi vogliamo fare che vogliamo mettere al centro e lo dico e chiudo su questo perché giustamente quando si parla di diritto alla salute e di diritti il messaggio che qui viene mandato è doppio anche le parole hanno un senso non si dice solo vogliamo il servizio sanitario nazionale noi oggi come CGL me l'hanno insegnato l'ho imparato anch'io si dice servizio socio-sanitario e dire questo non è semplicemente aggiungere una parola ma è introdurre un concetto che se io garantisco la salute da quando nasco a quando sono in vita io allora ho il problema di ragionare su che cosa significa socio-sanitario in tutta questa dimensione e qui vedo un punto che è una battaglia noi non abbiamo neanche una legge sulla non autosufficienza per fortuna si vive di più ma scusate ed è un tema che il Covid ha fatto emergere in tutta la sua drammaticità noi ci dobbiamo porre il problema non solo di vivere di più ma gli anni in cui vivo di più come li vivo e in quale condizione li vivo e questo elemento se la vogliamo una rivoluzione da fare proprio in questa direzione non solo facendo la legge sulla non autosufficienza ma non è più possibile avere un sistema di RSA come si dice nelle condizioni che abbiamo adesso noi abbiamo bisogno di qualificare quel settore e abbiamo bisogno di farlo io ho preso dall'euforia in un dibattito nostro interno sono arrivato a dire una cosa che poi mi hanno detto la devi dire meglio perché se no è un po' esagerata però era una provocazione che lanciava questa cosa nel nostro paese dopo aver fatto la riforma sanitaria nel 78 è stata fatta un'altra cosa molto importante a proposito di concezione di salute di sicurezza a un certo punto i manicomi si sono chiusi non so se è chiaro come concetto ora per esagerare nel ragionamento ho detto bisogna che noi ragionassimo come chiudere le RSA voglio essere chiaro ho vissuto anche sulla mia pelle ho avuto purtroppo mio padre gli ultimi anni era demenza senile totale se non c'erano determinate strutture era un problema ma la dico da un certo punto di vista perché lì c'è una rivoluzione culturale davvero da fare è un investimento da fare che vuol dire creare lavoro ma vuol dire creare anche una cultura in cui io non sono semplicemente un soggetto come persona che a un certo punto mi devi riempire di medicina non so se è chiaro la prevenzione vuol dire che io sono un soggetto che sono in grado di vivere di curarmi e di dare un contributo in senso generale allora la sanità deve essere in grado di affrontare questo tema e di costruire quell'intervento sul territorio che è in grado di valorizzare questa cosa e se ci pensiamo questo vuol dire più posti di lavoro vuol dire qualificare delle cose vuol dire dare una ed è un'idea di società solidale e diversa ecco questa è la cosa io credo importante che arriva da questa piazza e voglio dire al Ministro sfruttando diciamo la sua rappresentanza anche governativa stia tranquillo non solo noi rivendichiamo come sindacato di esserci ma se queste cose nei prossimi giorni non si fanno noi non solo siamo pronti a tornare in piazza ma ci torniamo anche non stando seduti se c'è bisogno non so se è chiaro come concetto perché noi vogliamo davvero produrre un cambiamento sostanziale e il Covid per assurdo nella sua drammaticità se apre questa opportunità non va assolutamente sprecata cambiare e cambiare mettendo al centro il lavoro le lavoratrici e l'intelligenza delle persone bene io voglio far parlare il ministro Speranza alla fine facendolo ragionare su queste due parole chiave che il ministro sa che per me sono l'inizio di una vera e propria rivoluzione copernicana dove saremo in grado di portare il servizio sanitario nazionale che sono le parole socio sanitario e prevenzione ma proprio per far capire a tutti noi come queste cose che stiamo dicendo non sono un dibattito teorico ma vanno declinate con l'emergenza di questi mesi sono molto interessato a sapere dal ministro perché so che è preoccupato come valuta l'aumento di questi giorni dell'epidemia questi numeri 400 500 nuovi contagi al giorno anche perché tutti stiamo cercando di capire qual è la soglia di rottura di questi aumenti quale sarebbe la situazione fuori controllo siccome il suo è un osservatorio veramente speciale già ieri in questi giorni so che voi state lavorando con il governo a provvedimenti per cercare di contenere questo aumento esponenziale dell'epidemia e lo fate grazie all'aiuto di epidemiologi del comitato tecnico scientifico vorrei che lei ci raccontasse a che punto siamo perché è così preoccupato di cosa dobbiamo aver paura credo che sia indispensabile tenere il massimo livello d'attenzione io ho tenuto la stessa linea anche nei giorni in cui sembrava che la curva fosse molto molto più bassa noi siamo riusciti a superare i mesi di marzo di aprile quando la situazione è stata diciamo molto molto problematica soprattutto in un pezzo del paese ma il virus ha sempre continuato a circolare la battaglia non è stata mai vinta in maniera definitiva e oggi riscontriamo una circolazione del virus che nelle ultime dieci settimane è cresciuta in maniera consecutiva in tutti i paesi europei e chiaramente anche in Italia e guardate per la prima volta in tutte le regioni e in tutte le regioni questo è un elemento di differenza rispetto alla fase precedente come un altro elemento di differenza riguarda l'età delle persone contagiate l'età delle persone contagiate nella fase precedente era abbastanza alta tra i 65 addirittura per alcune settimane aveva toccato i 70 anni oggi l'età mediana è intorno ai 41 anni e questo spiega anche almeno in parte il minore impatto sulle strutture sanitarie sulle terapie intensive sulle terapie subintensive quindi qual è la situazione? non siamo messi come altri paesi europei come avete visto ci sono paesi importanti insomma stiamo parlando di paesi tra i più ricchi del mondo la Francia ha 20.000 casi in un solo giorno la Gran Bretagna è arrivata a 17.000 casi la Spagna abbastanza costantemente sopra i 10 12 13.000 casi però la circolazione è una circolazione molto significativa e quindi abbiamo bisogno di alzare il livello di attenzione alzare il livello di guardia in queste ore abbiamo fatto alcune scelte quella delle mascherine obbligatorie anche all'aperto è una prima scelta che va in questa direzione abbiamo bisogno di un coordinamento ancora più forte con le regioni cosa che stiamo provando diciamo a fare sin dall'inizio ma credo che in questa fase questo sia particolarmente importante e abbiamo bisogno di valutare ora dopo ora momento dopo momento l'evoluzione epidemiologica io penso la stessa cosa sin dall'inizio di questa crisi alla fine le misure contano ma quello che è veramente decisivo sono e restano i comportamenti delle persone io anche qui rispondo in un istante penso che la scienza in un tempo congruo ci darà delle risposte incoraggianti importanti io sono ottimista non sono pessimista io penso che il vaccino le cure arriveranno noi abbiamo dei contratti firmati a livello di commissione europea con alcuni grandi aziende l'EMA che è l'agenzia europea del farmaco ha iniziato anche il processo formale di validazione questo è sicuramente un fatto positivo per le prime due aziende altre seguiranno si sta facendo una ricerca straordinaria anche sul lato delle cure non del vaccino ma delle cure penso al lavoro straordinario sugli anticorpi monoclonali su cui anche l'Italia è in prima linea insomma la mia opinione è che presto avremo delle notizie incoraggianti ma presto non significa domani mattina e non significa neanche tra pochissime settimane significa con tutta probabilità nella prima parte del 2021 e quindi abbiamo una fase di resistenza utilizzo un termine molto impegnativo come è noto per chi viene diciamo da una storia ma dobbiamo effettivamente resistere nel senso che c'è una fase di convivenza dove purtroppo non abbiamo ancora il vaccino non abbiamo ancora cure che sono diciamo risolutive abbiamo diciamo delle cure che sono migliori rispetto a quelle che avevamo nei mesi precedenti ma che ancora hanno una capacità di risolvere molto parziale il problema non definitiva e quindi in questi mesi io non mi stancherò mai di dire che i comportamenti delle persone sono la vera chiave essenziale le mascherine il distanziamento il lavaggio delle mani sono le armi che abbiamo quindi io continuerò sempre a fare appello ai nostri concittadini che sono stati straordinari perché diciamoci le cose fino in fondo nei mesi più difficili il contributo delle persone è stato veramente decisivo io non credo che abbiamo piegato la curva con un'impostazione di natura securitaria mica avevamo un poliziotto a controllare ogni persona noi siamo un grande paese democratico non abbiamo questo tipo di approccio ma a un certo punto il paese reale quello profondo i lavoratori le lavoratrici le persone che ogni giorno animano il nostro paese hanno capito fino in fondo che c'era una sfida grave che era arrivata a ciascuno di noi e bisognava rispondere con un elemento diciamo anche di grande unità di grande solidarietà io penso che oggi arrivano giorni in cui dobbiamo recuperare quello spirito dobbiamo recuperare quel grande spirito nazionale di unità di comunità di solidarietà che ci ha consentito di piegare la curva perché poi è evidente che questo fa davvero la differenza tu puoi fare anche una norma a Roma puoi decidere una restrizione ma se poi le persone stanno arrivando restrizioni pensano che bisogna far altro alcune le abbiamo già fatte alcune scelte le abbiamo già fatte le valuteremo le valuteremo in queste ore abbiamo permanenti riunioni con il nostro mondo scientifico tecnico con cui ci confrontiamo costantemente abbiamo riunioni politiche nelle prossime ore è chiaro che per me bisogna avere la forza di prendere in carico questa fase nuova immediatamente guardi me la faccia dire così poi so che c'è una facilità a fare titoli quindi io sono molto parco nella comunicazione perché basta poco e c'è un titolone enorme però siamo in una fase nuova ed è una nuova fase europea di cui dobbiamo prendere atto dal 4 di maggio in poi noi abbiamo firmato solo norme che introducevano misure meno restrittive con il decreto legge che abbiamo approvato poche ore fa per la prima volta dal 4 maggio abbiamo introdotto misure in più questo che cosa significa? significa che siamo a un cambio di fase a Parigi che è una grande città del mondo una delle principali più importanti più belle città del mondo ci sono misure molto dure messe in campo hanno chiuso piscine bar palestre a Madrid che è una grande città in un'area di milioni di abitanti si esce solo per andare a lavoro e per andare a scuola allora io dico noi oggi siamo messi ancora un po' meglio di questi altri paesi l'Olanda faccio un esempio ha un terzo dei nostri abitanti e ha 5.000 casi più o meno la Repubblica cieca con molti nostri meno abitanti ha 5.000 casi allora che cosa significa? Significa che noi abbiamo un piccolo vantaggio rispetto agli altri ma non possiamo farci illusioni e rispetto a questo vantaggio io penso questa è la mia opinione che se siamo veloci come paese a capire che c'è un cambio di fase possiamo evitare le misure più drastiche perché il mio obiettivo è evitare le misure più drastiche perché le misure più drastiche che noi abbiamo già fatto in Italia e hanno poi un costo in termini sociali in termini culturali in termini di vita qualità della vita delle persone in termini economici che non è cosa diciamo banale e quindi io penso che dobbiamo avere ora la prontezza di capire che ciascuno il governo le regioni ma anche le persone deve alzare il livello di attenzione se lo facciamo subito siamo nelle condizioni di governare meglio i mesi successivi in vista di un arrivo che ci sarà ma che purtroppo non è immediato non è domani mattina di risposte dalla comunità scientifica internazionale in termini di un vaccino sicuro perché deve essere sicuro e di cure efficaci e sicure che ci metteranno nelle condizioni di vincere questa battaglia perché mi permetta di dirlo ecco questa battaglia qui l'umanità la vincerà non è in discussione questa cosa il punto è come reggiamo e resistiamo in questi mesi in cui non abbiamo gli strumenti per piegarla definitivamente e abbiamo bisogno veramente del contributo di tutti ecco io anche da questa piazza molto bella faccio questo appello ecco serve di nuovo un contributo profondo di tutti so che stiamo chiedendo sacrifici stare in questa piazza bellissima con le mascherine distanziati è un costo sì lo so è un costo c'è poco da fare anche per me parlare qui con la mascherina è un costo ma è un costo che è necessario indispensabile perché non possiamo vanificare i sacrifici straordinari che abbiamo fatto finora ultima cosa in un istante è un tweet abbiamo dimostrato lo dico con umiltà in punta di piedi e quando dico abbiamo non penso al governo penso al paese abbiamo dimostrato nei giorni più difficili di essere un grande paese abbiamo non il governo voglio essere chiaro l'Italia le donne gli uomini le associazioni i lavoratori le lavoratrici le imprese le associazioni il volontariato dobbiamo dimostrarlo di nuovo perché i mesi che arrivano non sono semplici e dobbiamo dimostrare ancora di essere un grande paese bene Landini andiamo un attimo in conclusione però diciamo noi ce la mettiamo tutta noi dell'informazione che stiamo facendo specialmente presa diretta campagna per avvertire le persone che il pericolo c'è ancora e che questo della distanza fisica delle mascherini mascherini è un comportamento etico di rispetto di responsabilità nei confronti di un paese che del quale se dovesse ripartire il lockdown ci sarebbe gente che soffre non tutti in Italia ricevono lo stipendio ogni mese e c'è chi se lo deve guadagnare alzando le serande del bar del ristorante eccetera però e questo ha a che fare molto diciamo col tema di questa di questa giornata e con le riflessioni gli studi che avete fatto noi stiamo vedendo che ci sono già dei servizi sanitari regionali che vanno in affanno no come sono aumentati di numeri abbiamo visto le file drive-in l'allungamento delle ore per avere i risultati dei giorni per avere il risultato dei tamponi c'è il tema delle vaccinazioni cioè c'è il tema da voi portato e anche dal ministro ha annunciato tante volte di implementare quella medicina di prossimità che consente in queste settimane non dobbiamo aspettare il prossimo anno ne abbiamo bisogno subito di fronte all'aumento dei contagi di fare i tamponi di farne tanti di tracciare le persone di ricostruire le catene epidemiologiche io ho visto che cos'è un dipartimento di prevenzione questo cenerentola sconosciuta prima che scoppiasse il covid è fatto da centinaia di persone cioè ci vogliono i mezzi ci vogliono gli infermieri ci vogliono le macchine ci vogliono i tamponi ci vogliono i laboratori che siano in grado di processarli vede anche lei Landini questo delay diciamo fra le intenzioni e poi la nostra capacità questo primo segno di fragilità da voi denunciato negli anni del servizio soprattutto di alcuni servizi sanitari regionali la campagna sembra tornata in crisi no? cioè non c'è mai entrata ma ai primi 700-800 già vedi le ambulanze che aspettano ore davanti al Cotugno per esempio non è questa una battaglia da fare ora subito per ottenere ora e subito e fare in modo che i servizi sanitari regionali rispondano alle indicazioni che vengono da Roma perché sennò altrimenti Speranza guida la macchina la porta in una direzione e poi questa macchina così pesante ci mette magari mesi per fare dei passetti che rischiano di non essere sufficienti nel caso dovessero ancora nonostante il nostro contributo aumentare perché i numeri aumenteranno perché il lockdown li abbassati perché stavamo tutti a casa ma qui giustamente il paese lavora prego io credo che qui c'è una riflessione da fare più generale e cioè che queste diseguaglianze queste differenze c'erano anche prima del covid non è che nascono adesso non a caso si è detto anche durante quella fase più volte che il fatto che abbia colvito solo una parte del paese non tutto il paese è anche un elemento che in un qualche modo ha coperto anche problemi che esistevano che esistono e che non sono stati risolti lo dico banalmente perché e io qui credo ci sia un cambiamento non so se è un caso ma se uno ci guarda i tagli che sono stati fatti in questi ultimi anni sia di posti letto sia di organici eccetera ammontano a circa 37 miliardi non so se è un caso ma tutte le volte che si discute di MES salta fuori che sono 37 miliardi sarà un caso sicuramente anche perché poi il MES qualcuno ci ricorda è un prestito agevolato ma è un prestito e tutto il resto questo per dire che sicuramente noi abbiamo bisogno di agire nell'emergenza da un certo punto di vista mi viene da dire che la capacità che abbiamo avuto di agire in emergenza deve diventare la normalità non so se è chiaro perché non è che quando c'è l'emergenza trovi le soluzioni poi torni alla normalità e risalta fuori che non funziona nulla perché vuol dire allora quel punto lì che devi proprio agire in questa direzione in questa forma e sicuramente il problema di fare le assunzioni di avere un coordinamento noi una delle proposte ad esempio che noi facciamo che non è per anche qui creare il capo espiatorio creare un problema quando si dice torniamo al territorio noi ad esempio come ci dice stiamo dicendo che i medici di base dovrebbero in prospettiva tornare a essere dipendenti del servizio non cose diverse o distinte ma non è per avercela con i medici di base ma se tu vuoi ricostruire una filiera sanitaria che funziona devi anche ricostruire una filiera che si fonda sul lavoro e sull'integrazione tra i vari servizi e quindi da questo punto e così mi permetto di dire noi abbiamo un altro tema vorrei ricordare a tutti che fino a qualche mese fa uno degli oggetti della discussione di questo paese era l'autonomia differenziata vorrei che qualcuno sarebbe adesso fan pinta di esserselo dimenticata ma uno degli oggetti era l'idea che ognuno era padrone in casa sua come si diceva nella sua regione nel suo comune credo che abbiamo capito tutti che follia era un ragionamento di quel genere lì e oggi se uno dei problemi che abbiamo e lo dico avendo qui il ministro noi dobbiamo uscire dal fatto che abbiamo 21 servizi sanitari diversi a seconda delle regioni in cui sei perché oggi il progetto quando si parla di garantire i livelli minimi di assistenza noi dobbiamo avere in testa un'idea di sistema e di costruzione dove da un certo punto di vista la competenza delle regioni è un'aggiunta ai livelli minimi di assistenza è una qualificazione in più del servizio che tu garantissi in senso generale a tutti e quindi io credo che noi oggi abbiamo questa discussione certo anche le parole dette qui dal ministro ma purtroppo i dati vanno in questa direzione è sotto gli occhi di tutti che c'è un elemento di emergenza da gestire io dico banalmente penso che in questa fase noi dobbiamo usare la stessa logica parlo sindacalmente che abbiamo usato quando a un certo punto ci siamo assunti anche la responsabilità di dire che se non c'era sicurezza certe attività si dovevano bloccare perché questo ha portato il protocollo alla sicurezza il protocollo alla sicurezza che si è realizzato e so di parlare in un settore dove all'inizio non c'era la sicurezza e lo ricordava la delegata prima c'è gente che purtroppo ci ha rimesso la vita per lavorare non in sicurezza e per garantire gli altri sono consapevole di tutto questo ma da un certo punto di vista proprio perché sono passati dei mesi e alle spalle abbiamo un'esperienza io credo che ancora di più oggi il tema sia quello che se non c'è sicurezza non si lavora e ti fermi per metterti in sicurezza non so se è chiaro perché non è semplicemente la tutela di chi lavora abbiamo visto che questa è la tutela del resto se c'è stata nel periodo anche estivo e da noi una ripresa guardate che grazie a questo vorrei ricordare a quelli che dicevano non si doveva fermare l'economia se no chissà cosa succedeva aver scelto a un certo punto di dire viene prima la salute di altre cose è quella che oggi determina che il paese in alcuni settori è più avanti di quello che era un anno fa non so se è chiaro investire nella salute nella sicurezza anche culturalmente per me vuol dire anche questo avere questa visione poi certo oggi sono d'accordo c'è un problema anche di comportamenti non c'è alcun dubbio c'è proprio anche un problema che riguarda i comportamenti e la responsabilità di ognuno di noi non c'è alcun dubbio dentro questa direzione e quindi è molto importante ma allo stesso tempo se voglio favorire comportamenti positivi contano anche gli esempi non so se è chiaro e quindi conta anche il fatto che oggi chi si trova a gestire quei problemi nel luogo in cui è non si deve sentire da solo deve sentire attorno a sé un sistema che dà risposta a come trovo il tampone a come affronto questo tema a come se per caso devo riallestire dei reparti che avevo smantellato oggi è il momento di mandare questo messaggio e da un certo punto di vista io credo da questa piazza arriva proprio la necessità fatemela dire che la forza del protocollo alla sicurezza non era solo dire se non c'è sicurezza non si lavora noi abbiamo fatto i comitati nei luoghi di lavoro in cui abbiamo rivendicato che il ruolo dei lavoratori assieme agli altri soggetti era partecipare assieme per determinare queste condizioni se la guardo da un certo punto di vista la nostra di oggi non è solo la rivendicazione classica governo noi stiamo rivendicando di essere coinvolti e di partecipare nella progettazione del cambiamento di partecipare a questo patto per il paese su cui speranza insiste ormai da mesi il problema è riconoscere finalmente la soggettività del lavoro e i diritti di chi lavora questo è il punto e reintrodurre la dico in modo molto secco perché noi diciamo che c'è bisogno di investire nella sanità che c'è bisogno di investire nella scuola anzi noi stiamo dicendo che anche per fare la politica industriale di questo paese c'è bisogno di un intervento pubblico nell'economia perché io la dico ancora di più non solo il mercato non risolve i problemi va proprio capovolto no il mercato da solo oggi crea problemi non li risolve e quindi è proprio necessario un'altra cultura che rimetta al centro il lavoro e io credo che ad ogni livello il messaggio che noi mandiamo ha questa caratteristica e diciamo al governo e ci aspettiamo che nelle prossime ore arrivi anche la convocazione delle organizzazioni sindacali perché sia possibile che questa discussione non la facciamo in piazza ma la facciamo attorno a un tavolo per decidere assieme davvero questo cambiamento grazie bene allora io direi che possiamo chiudere questa bella mattinata tanto dicendo in bocca al lupo a tutti noi italiani in bocca al lupo a voi della CGL a noi che dobbiamo ancora partecipare e convivere con questo coronavirus in queste settimane in questi mesi e anche un grande in bocca al lupo a Roberto speranza perché ci aspettano appunto mesi difficili ma le cose che ci ha detto oggi noi li seguiremo ecco io personalmente come giornalista voglio avere il piacere e l'onore di seguire l'apertura di questi tavoli quando si lancerà la riforma del servizio sanitario nazionale e vedere se le parole d'ordine prevenzione e socio sanitario si trasformeranno in qualcosa di appassionante di concreto per il futuro del nostro paese e cioè la capacità di aver capito in profondità che tipo di che natura ha la sfida che il coronavirus ci ha lanciato non per adesso ma per molti anni ancora un abbraccio a tutti voi grazie Ministro grazie Landini grazie a tutti i nostri grazie a tutti i nostri